Non ce la prendiamo mai con un genere, ma semmai nello specifico, con quello, dicendo nome e cognome, dici quello, non mi piace. Però parla male di un genere... Alla facciamo i nomi, vai! Buonasera a tutti e buonasera a tutti, benvenuti alla puntata numero 184 di Tintoria, applauso! Vamos! Alla mia destra, alla co-conduzione, Stefano Rapone, ragazzo bello con un felpe di qualsiasi colore. Stefano, siamo tornati da Snodo, come stai? Sono abbastanza distrutto. Ah, distrutto addirittura? Distrutto dalla stanchezza. Perché sono sempre a far su e giù, tra qui e Milano, con gli amici Giolappas, eccetera. Che salutiamo, ci mancherebbe. E quindi sono un po' stanco. Sei stanco? Secondo me devo smettere i fatti in teoria. Vuoi smettere i fatti in teoria? Sì, basta. Ma che cazzo dici? Ma dove vai? Me ne vado. Ma dove vai? Sì, sì. Vado io. Ma poi la dici sempre, questa cosa. Oramai ti sei costruito questa prigione dorata, ma tu sei costretto a... Cioè, tu sei nato per questo, per fare i podcast, per fare il comico. Dov'è? Non lo so, però voglio fare altro nella vita. Ma che devi fare, Stefano? Sei nato per te, c'hai una vocazione per la comicità. No, no, io c'ho un sogno. C'hai un sogno? C'è un sogno che non è fare tintoria. Sì. Avere il mandione. Lo fai tutto tranquillo, voglio fare un'altra cosa. Che vuoi fare? Voglio lavorare in oratorio. Vuoi lavorare in oratorio? Sì. Con le suore, i predi, i catechisti. Vabbè, sai che io non ho mai bazzicato oratori, però mi sembra una cosa nobile, una cosa bella. Non posso, non mi accettano lì. Non ti accettano? In oratorio, l'oratorio è un posto che accetta. No, no, non mi riconoscono come uno di loro. In oratorio? Sì. Non credo, guarda, contro i miei interessi, per favore. Puoi lavorare in oratorio tu? Eh? Ci puoi lavorare in oratorio? Eh no, non mi accettano. Che posso fare? Io ho provato, ho delle caratteristiche mie che non conformi. Ma è perché bestemmi sempre? Sì, pure quello. Eh? Infatti. Cioè, ho avuto dei problemi, l'ultima volta, sai, ti ricordi, stavo a mettere un crocifisto, bestemmiato davanti al Cristo, stavo lì. È brutto. C'era un po' dei pensieri, vabbè, era Pasqua, lo sai. Certo, Pasqua e Tosta, i parenti, le uova. Sì, sì. Tremenda. Stavo in diocesi davanti a tutti, i monsignori, però... E vabbè, quindi per quello non t'hanno preso. No, poi la te perdonano comunque. Ma anche avessi bestemmiato Dio, bestemmiato altri personaggi minori, diciamo, Santi, Madonne, però non Dio, quindi quello... Non Dio, è chiaro, non illegale. Vabbè, quindi t'hanno perdonato il cattolino. E quindi, scusa, qual è il problema? Eh no, c'è altre cose che non... Non so se posso dirle qua. Allora, dimmelo subito che chiudiamo. Sono scandali sessuali? Sì, ma non quelli che pensi tu, perché c'è avuto una storia con una suora. Ah. Sono innamorato, però non c'è stato, cioè, non c'è stato contatto fisico, ecco, perché... Ah, non l'hai purgata? No. No. Non l'ho purgata. Non per... Cioè, a me, sai, mi piacciono le anziane, però... È certo. Lo so, lo sanno tutti. Quando l'ho vista nuda, non ce l'ho fatta, ma più che altro perché aveva perso il fascino della divisa, quindi... Ah, no, certo, questo ci sta, e quindi perdonato, vabbè, ma scusa, allora quale cazzo è il problema, me lo dici? È gravissimo, è che non so suonare la chitarra. Non so suonare la chitarra? Infatti è una violenza che muovi da questa cosa qua, non la so suonare, per me è... Che problema è, scusa, perché per lavorare in oratorio devi saper suonare la chitarra? Eh sì, è fondamentale, perché poi fai alleluia, alleluia così, solo che muovile mai senza l'accompagnamento della chitarra, sempre in disadattato, Invece se suona qualcuno sei un ode a Dio, così sei un pazzo. Vabbè, ma scusa, la chitarra puoi impararla a suonare. Eh, come faccio, non so capace, è difficilissimo. No, vabbè, cioè nel senso, alla fine non è impossibile. No, ma basta che ti trovi un corso che magari, pure se non ci puoi andare di persona, c'è un maestro su Zoom. E come fai, scusa? No, ma lo trovi, cioè magari ti servebbe una cosa con un bello sconto del 50%, per chi si iscrive la prima volta, ma anche se sei uno che già sa suonare un pochino, no? Ti dà pure lezioni di quel tipo. Ma dove lo trovi, scusa, sto corso? Scusa, Stai, ma basta che vai su chitarrafacile.com slash tintoria e trovi tutti questi sconti incredibili fino al 31 dicembre. Ma davvero? 2023. Ma certo, ma è lo sponsor della puntata di oggi, chitarrafacile.com slash tintoria. Ma dove si trova, scusa? Nel link in descrizione alla puntata di oggi. Ma come hai fatto? Non hai studiato niente? Non ti sei preparato per niente? No, no, stavo pensando su. Maestro, senza suonare la chitarra, sia che sei a livello zero, sia che sei uno che già ha imparato, sconti incredibili, fino al 50% di sconto, entro il 31 dicembre 2023, se vai su chitarrafacile.com slash tintoria. Ma come fai a essere così esperto a tutte queste... Io sono grande appassionato di chitarre, di chitarristi. Ah sì? Sì, sì, certo. Scusa, che... Cioè, che ne so, tipo mi piace Cesario degli Alie e le storie tese, mi piace un sacco. Guarda, chi so gli altri chitarristi che ti piacciono, scusa. E guarda, me ne piacciono un sacco, tipo Andy Martongelli, che suona con il bassista dei Megadeth, comunque in ambito metal lo conoscono tutti. Ah, vedi. Oppure Andrea Braido. Ah, e chi... Andrea Braido, ex Vasco Rossi. Sì, e poi chi altro conosci? Chi sono i tuoi preferiti? Guarda, li conosco tutti e li elenco ora. Riccardo Bertuzzi, che lavora molto in tv. Davide Tagliapietra, che è chitarrista e produttore di Tiziano Ferro, Gianna Nannini e la numero uno, Cristina D'Aviena. Ah. E certo. No, tra l'altro parlano tutti bene di chitarrafacile.com slash tintoria. Ah, vedi. Però, sull'attività che stai così esperto, io non capisco niente. Chi è il chitarrista più bravo della storia d'Italia, secondo te? Vabbè, se me lo chiedi così, non perché è stasera e non per piageria, però il numero uno è Thomas De Maneskin. Vabbè, ci sta. È il mas grande. È bravo. Cioè, è più grande. Vabbè. Eppure... Eppure stasera. Ci siamo presi questi... Senti, non è certo grazie alla tua capacità di suonare la chitarra. No. Se siamo arrivati alla puntata numero 184. No. E' certo grazie alla mia conoscenza dei chitarristi internazionali, perché conosco solo quelli nostrani. E se siamo arrivati a questa puntata, deve essere grazie agli ospiti straordinari che abbiamo la fortuna di invitare ogni volta. Quindi senza ulteriori indugge andrei a presentare l'ospite alla puntata numero 184 di Tintoria. Signore e signori, solo per voi Alex Britti. Sassa, ciao a tutti. Buonasera. Benvenuto a Tintoria. Grazie mille di essere venuto ospite di questa puntata. Stefano, si era preparato? Una bella domanda strong. Come stai? Subito. Sì. Come stai? Come sto? Mazza, parti in quarta proprio, subito. Certo. Sto bene. Ah. Sto bene, sì. Dai. No, va bene. Cambiavo tempo, c'avevo freddo, mi ho messo il giubbotto, quindi adesso sto benissimo. Sto un po' più, però fa caldo qua dentro. Ok. Quindi forse te lo toglierai. Ci si può anche spogliare, togliere strati. Ah sì? Io ho appena tolto uno strato per dare le lezioni. Aspetto ancora un minuto. Sì, sì, no, certo. Prima ti devi acclimatare. Posso fare un'altra domanda prima? Ok, la prima è andata, meno male. Sì, no, prima posso dire si è andato bene. Sì, sì. La prima si è andato forte. La seconda è che hai fatto oggi. Pure questa non facile. Oggi ho suonato. Hai suonato? Sono stato un giorno in studio. Ah. Sì, poi ho mangiato e ho bevuto un paio di caffè. Una giornata abbastanza intensa. A che ora hai suonato? Dalla mattina fino ad adesso hai suonato? Ho suonato, no, la mattina no, perché dovevo tagliare il giardino. Ah, tagliare il giardino? Sì, ho tagliato il giardino. Con la macchina elettrica o con le scesoie? No, ero partito con le forbici e il pettinino, poi pettevo troppo tempo, ho preferito prendere l'affettatrice. Ok. Com'è il tuo giardino? Il mio giardino è bellissimo, anche se ho il vicino che è più figo. Però anche il mio, insomma. Dice il detto, no? Sì. Certo. Perché è più figo? C'è lui che c'ha in più. Cosa? Che cosa ha in più lui che tu non hai nel suo giardino? È più verde. È proprio più verde. No, sembra che ho detto... Invece è vero, il giardino secondo me lo dipinge. Perché non è possibile. Non siete in buoni rapporti, non lo vuoi chiedere. No, no, siamo in buoni rapporti, però... Ecco, lo chef che non ti dice il segreto, ovviamente, è uguale. Non me lo dice. L'ho chiesto pure al giardiniere mio, mi ha detto no. Non si sa. Marendo. Non lo so. Comunque, se lo risolvo a giorni, poi magari ti chiamo, in caso torno pure ospite, così ti racconto. Posso portare qualche foto? È certo, dicevo, c'è presente il giardino amico mio? Beh, so cose, il giardino verde, so. No, no, mazza. Ma tu come sei una persona dal pollice verde? Io ho il pollice nero più che altro, poi mi aiuta uno che ha il pollice verde. Ma come fa? Spero, scusami, voglio neppure. Intanto volevo chiedere se ci alzate poco poco in spia. Eh, perché non si sente, ho fatico a sentire. Ti dico, ho fatto io il soundcheck prima, ho detto abbassa, abbassa, e adesso sto qua a rosicare, quindi chiedo scusa. Forse hanno abbassato perché probabilmente, non è che freghi tanto un cazzo del giardino, allora hanno... Hanno detto vabbè, abbassiamo poi quando... Aspettiamo che facciamo domande più chicche. No, 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 è colpa mia, mi assumo tutto adesso. Credo, non lo so. Sono arrivato prima, ho detto no, abbassa, abbassa, se serve. Abbassa, vero? Sì, invece hanno abbassato. Ma infatti pure così. Pure così, esatto. Scusa se torno sul giardino. Vai, Stefano. Stefano ha le sue cose. Scusa, ma c'hai tipo il tavolo dove mangi? No, ancora no. Ah, perché è nuovo? Mi sono trasferito da 4-5 mesi, però c'è stato il tour di mezzo, quindi ancora non ho il tavolo. Ok, quindi è casa nuova. Non posso fare le cene, però posso fare i picnic. Eh beh, certo. Col prato. Col prato. Bellissimo se inviti qualcuno a casa per un picnic. Per un picnic. Non è male. Invece di dire, sai, la cena a tavola è? Fai solo cose da picnic, panini. Fai almeno una cosa diversa. Ho fatto l'altro giorno che pioveva, poi è stata un'esperienza incredibile. Cioè, venite a me per un picnic, giorno di pioggia. Sì, perché a farlo canonico sono buoni tutti, invece farlo quando piove sotto l'acqua è più divertente. Bello, sono soddisfatto di questa conversazione. Stefano, gli piace sapere dei picnic. Invece io comincerei la puntata, diciamo, standard con una domanda. A noi ci piace sempre partire dalle origini, con tutti gli ospiti, perché abbiamo ospiti che avendo fatto percorsi creativi e artistici hanno percorsi unici e abbiamo studiato e abbiamo visto che te, quando comincia a suonare la chitarra da piccolo, a un certo punto, a 17 anni dici, fondo una band, entro in una band e cominci subito con una band blues. La mia domanda è, ma sto blues, perché? Cioè, con tutto il rispetto, però a 17 anni uno fa, faccio la mia band rock, punk rock, facciamo una cosa pop e tu subito, no no, blues. Perché? Perché credo ci sia una predisposizione anche nel gusto. E a me sono sempre piaciuti, quando ero bambino avevo a disposizione i cantautori, la musica che girava, a casa mia si sentiva tutto quello che si ascoltava era prodotto dentro il raccordo anulare, quindi i miei ascoltavano, non lo so, Califano, Gabriella Ferri, Lando Fiorini, quindi a casa mia quello, cioè alle feste un po' di Barry White, botta di vita. Comunque bel salto, fino a Barry White. Erano un bar negli anni 70, quindi quella era la roba che si ascoltava. Poi, però tra i cantautori che avevo a disposizione, io sceglievo sempre le canzoni Fatalità, quelle più rocchettare. Quindi ascoltavo Bennato, Edoardo Bennato, un po' di Pino Maniere, un po' di Rino Gaetano, mi piaceva Ivan Graziani. E quindi preferivo, cioè sempre quelli che comunque suonavano e c'era un po' di rock dentro. Il rock and roll viene dal blues, quindi c'era quel sapore lì. Quando poi, mano a mano crescendo, ho imparato a riconoscerlo, a riconoscere il blues e a saperlo estrarre dalle cose, quindi a provare a cercare anche qualcosa all'estero. Quindi prima Santana, David Lindley, insomma un po' di chitarristi, e poi forse il primo che ho conosciuto, sempre attraverso i dischi ovviamente, è stato Santana. Da lì ho cominciato a pensare, a capire che la chitarra poteva cantare, cioè poteva sostituire la voce e fare quello che si chiama il canto. E quindi Santana, però ancora cercavo, ancora non avevo capito, ancora mi agolavo nel buio, diciamo, e poi ho scoperto per caso su Video Music, che c'era all'epoca, c'era un videoclip di Stevie Ray Vaughan, un chitarrista, cantante, fortissimo, e lì mi ha preso, fui proprio colpito, ancora mi ricordo, che ascoltavo questo brano in televisione e a fine brano appariva il nome dell'artista e il titolo della canzone. E io mi sono scritto subito, mi sono appuntato il titolo e volevo andare a comprare il disco. Non avevo soldi, quindi ho preso, una volta si usava coi dischi, coi vinili, prendevi, se gli portavi al negoziante tre, quattro dischi usati, te ne dava uno nuovo. Quindi sono andato a vedere tra i dischi di mio padre, tanto non se ne accorgeva se gli riprendevo, e andai da Revolver, un negozio che c'era tra Stevere, vicino a casa mia, e presi il disco di Stevie Ray Vaughan. E quindi poi da quel giorno la mia vita è stata un'odissea. Mi imbattei in un cargo battente, vabbè, insomma ho cominciato a suonare il blues, ho studiato a memoria quel disco di Stevie Ray Vaughan e poi una settimana, dieci giorni dopo, ne ho comprato un altro, erano finiti tutti i dischi di mio padre quel periodo a casa. E niente, ho iniziato a suonare soltanto blues, quindi sempre di più mi sono chiuso a casa, avevo 16 anni. Un annetto dopo ho detto sono pronto, voglio andare a suonare nei locali. Io già suonavo, perché già facevo le feste di piazza d'estate, dove facevo il cantautore, diciamo. E lì iniziai invece a voler soltanto suonare la chitarra. Sono stato fortunatissimo, perché avevo degli amici in comune, avevo scoperto che avevo degli amici che erano amici a loro volta di Roberto Ciotti, che è stato secondo me il più grande chitarrista blues che abbiamo mai avuto in Italia. Me l'hanno fatto conoscere, mi ha sentito suonare e mi ha chiamato a suonare nel gruppo suo, che da un trio diventò un quartetto con me alle chitarre ritmiche. E da lì è partita, lì è partita veramente l'Alex che sono ancora adesso, cioè quello che suono, 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 cerco di suonare la chitarra blues. Poi da lì quindi ho iniziato con lui, è stato un passepartout incredibile, perché lui era già un nome affermato, suonava in tutti i locali, non solo a Roma, ma in Italia. E io quindi giravo con lui a fare il chitarrista e quell'anno, avevo 17 anni, ho suonato in tutti i locali che c'erano. Quindi al Big Mama di Roma e poi da lì insomma un po' dappertutto. Poi ovviamente essendo sdoganato con Roberto avevo un po' le porte aperte in tutti i locali, quindi poi tornavo a suonare col trio mio, con altri band, insomma da lì ho cominciato a fare il chitarrista. E infatti questo un po' mi incuriosisce, cioè c'era una scena di locali che facevano blues, c'era una scena di pubblico, di musicisti e quindi anche di pubblico che facevano blues, questa scena c'è ancora? Cioè sono io che non la conosco perché non è una cosa? Oppure prima ti sembra che ci fosse più movimento in quel senso? Ma come sempre i tempi cambiano, è sempre tutto in continuo cambiamento costante, questo in tutti i campi, in tutte le cose. Quindi negli anni 80, quando ho iniziato io a suonare dei locali, nell'84-85, era pieno di locali, un po' in tutta Roma, poi Trastevere in particolare era come un po' un village, quindi c'erano un sacco di locali, che mi ricordo il Big Mama, poi c'era il Dorian Gray, il Dottor Fox, Roma di Note, ce n'erano veramente un sacco. A guardare così mi sa che non potete ricordarvi i locali degli anni 80 sicuramente. E poi negli anni 90 anche, fino a metà anni 90, c'era una grande moda di andare in giro a sentire la musica dal vivo la sera. Poi si è trasformata piano piano, sempre meno musicisti, sono diventati più DJ e poi sono diventati tutti bistro etnici. Il passaggio è stato da musica a cibo. Poi si è ritornato a suonare, però se non sei alternativo oggi non funziona. Insomma, all'epoca c'era un sacco di jazz, un sacco di blues, un sacco di musicisti che giravano. Tu hai cominciato, quando hai imparato? Già sette anni già suonavi in pubblico, quando hai imparato proprio a suonare? Come hai fatto da solo, da autodidatta? Ho iniziato da solo, sempre suonando dietro ai dischi. Prima i cantautori, ti ho detto prima di tutti Edoardo, Bennato. Io ho sempre detto, anche a lui, io lo rinfaccio sempre, che è per colpa sua che suona la chitarra. Quindi poi ho continuato ad imparare. All'inizio impari gli accordi, il primo anno, i primi due anni. E poi inizi, se sei curioso, vuoi scoprire cose nuove. E quindi piano piano volevo imparare tutte le canzoni di quel cantautore, tutte le canzoni di quell'altro, poi di quell'altro. Poi finiti i cantautori, ho iniziato con i bluesmen, quindi poi sempre dietro ai dischi. Dopo Santana inizi a suonare dietro i dischi di Stevie Ray Vaughan, i dischi di B.B. King, Freddie King, Albert Collins, tutti i bluesmen, Jolly Hooker. E impari, è come se devi imparare una lingua. Perché poi ogni genere di musica ha una chiave di accesso. Quindi è un linguaggio, un fraseggio blues, un fraseggio jazz. E quindi io ero curioso e volevo suonare tutto, volevo imparare a suonare tutto. Quindi suonavo un po' di tutto e quando mi sono trovato a iniziare ad andare in giro a suonare nei locali già sapevo suonare. Infatti ero l'unico piccoletto, un pischello in mezzo a tutti, già 30, 35, 40, 50 anni. E come li trattavano gli altri, visto che eri più così giovane rispetto a loro? Mi trattavano bene. Ero sempre un po' la mascotte dei gruppi. Poi non si percepiva sul palco l'età, perché comunque suonavo. Però sì, poi ero sempre abbastanza trattato come la mascotte. Mi perdonavano magari qualcosa che facevo. Non sul palco, parlo sempre di fuori dal palco. Cioè, posso chiedere che cose? Cose di che tipo? Cose che ne so, che magari finisce il concerto e devi impacchettare le cose, invece sparisci. Poi il giorno dopo dici, vabbè, non fa niente. Tu sei giovane. Le cazzate se non le fai adesso, quando le fai... Esatto, sempre con queste cose qui e quindi giù a fa' cazzate, tanto ero giustificato. Però sì, almeno le fai tutte in due o tre anni e te levi il pensiero. E a 25 anni già sei bello bilanciato, calibrato, ponderato. Questo è un bel messaggio, anche fate tutte le cazzate il prima possibile. Vediamolo. Beh, invece il tuo primo disco che fai nel 92, quindi ancora giovane, però non ha... Cioè, tu poi, chiamiamolo il successo, lo fai nel 98. Cioè, proprio il botto, chiamiamolo il botto. Invece all'inizio, quindi sei anni prima, fai il primo disco. Allora dici, ok, io suono sin da quando, in pubblico, in giro per l'Italia, sin da quando ho 17 anni, faccio il primo disco, il primo disco... Come te lo vivi? Cioè, come ti sei visto il primo disco? Perché magari uno sogna di diventare Eric Clapton. Eric Clapton ci diventa Eric Clapton. Sei giovane, come ti vivi la cosa? Faccio il primo disco e questo è... Ma il primo disco è stato... Cioè, quel primo disco, che io non lo considero neanche il primo disco, è stato abbastanza casuale. Cioè, suonavo random, scrivevo in modo random, poi ho trovato delle persone che volevano fare un disco, abbiamo fatto, abbiamo prodotto, siamo stati in studio, casa discografica, abbiamo organizzato tutto. E poi, in realtà, però il disco non è uscito nel 91, 92. Non mi ricordo neanche, perché poi io avevo già passato tutto il 90 in Olanda, vivevo, cioè suonavo con una band di Amsterdam, cioè che facevano base ad Amsterdam, poi eravamo tutti lì, nazionalità diverse. E mi ero già vissuto un anno, insomma, in giro in tutta Europa a suonare. Poi mi sono fermato nel 91 per registrare questo disco. Però non andavo d'accordo con le persone della casa discografica, a parte i miei produttori, quelli che ci lavoravo, però quelli con cui mi dovevo rapportare a lavorarci, non ci andavo tanto d'accordo. Quindi dissi un po', boh, fate... Insomma, io mi fermo qui. E sono tornato in Olanda. E quindi poi non sapevo neanche se era uscito o non uscito. Era andato un po' così. Poi in realtà credo che uscì soltanto perché ovviamente erano stati spesi dei soldi e se non usciva non potevi scaricarti dalle tasse i soldi spesi. Quindi l'hanno fatto uscire, hanno stampato cinque copie, una a me, una a mia madre, una... Basta la presentare al commercialista e dire guarda, è disco fisico, quindi scarichiamo. Esatto. La mia copia l'ho regalata al direttore di banca, le solite cose che ci fanno. Certo, cosa si fa? Poi ho continuato a lavorare, a concentrarmi a lavorare, a lavorare, fino a che poi nel 98 è il mio vero primo disco perché volevo farlo, perché nonostante anche lì ci sono stati insomma un po' di combattimenti, però lì ero più determinato, ormai avevo 30 anni, volevo fare quello, insomma, è andata bene. E com'è stato poi fare, se posso usare questo termine, il botto? Perché tu nel 98 fai il disco, i singoli vanno al numero uno, com'è appunto? Già a 30 anni, non sei un ragazzetto, cioè 30 anni suoni da quando erano i 17? Non so se posso entrare, questo è come Gesù, siamo già arrivati a quando predica, però c'è tutta la parte in Olanda che non ci ha spiegato esattamente come Gesù, che non si sa che faceva. Allora Stefano adesso chiederà della parte. Quando era l'Amsterdam lui. No, com'era quella parte lì? Cioè tu come sei finito in Olanda? Sono finito in Olanda perché avevo suonato a Roma con una cantante, Rosa King, che girava da sola e serviva. Io facevo questa cosa spesso per il Big Mama, cioè che giravano degli artisti da soli, artisti internazionali senza band e loro mi chiamavano per suonarci la chitarra e per organizzare una band, quindi bassista, batterista, pianista, dipende da quello che serviva. Avevo fatto questa cosa per Rosa King e poi lei mi ha chiamato, mi ha detto che stai a fare a Roma, se vieni in Olanda entri in una band e lavori con me. E io sono andato in Olanda, ho aspettato che finissi il militare perché stava a fare il militare all'epoca e quindi poi sono andato a trovarla e ho iniziato a lavorare lì. Poi puoi immaginare, perché poi l'Olanda è piccola, non è che quando suoni in Olanda fai un sacco di concerti sempre in Olanda, quindi giri lì con due ore di macchina, sei a sud, sei in Belgio, hai la Francia un tiro di schioppo, la Germania, quindi sei sempre in giro. Infatti poi in tutti gli anni 90 ero di base ad Amsterdam, però stavo anche di base a Roma, mi sono sempre mantenuto al mio buco di casa però in Trastevere, sono rimasto sempre lì e poi però ho fatto un periodo ad Anversa, un periodo a Parigi perché lì suonavo jazz e poi un periodo a Monaco, insomma vivevo un po' quello che mi capitava, non programmavo molto, mi facevo, come si dice, ispirare. Sì, no, più che altro perché magari conoscevo una ragazza di Parigi e quindi poi mi fermavo a Parigi, cioè nei posti dove mi sono fermato era sempre perché sì ci suonavo però poi c'era pure altro che mi convinceva a fermarmi, sì. E Amsterdam negli anni 90, da italiano che ci viveva, quanto giudicavi male gli italiani che venivano solo per canne e le ragazze in vetrina? Boh, non li vedevo, non li incrociavi mai, quando vivi a Amsterdam il centro non lo consideri, cioè la zona, il distretto dove stanno tutte le prostitute e le zone coffee shop, quella parte lì non la consideri tanto, non è frequentata da chi vive lì, insomma. Certo, immagino. Ci vanno a fare i weekend, ma non solo gli italiani, ci sono francesi, portoghesi, tedeschi, tutti, adesso lo so che è ancora peggio perché da quando ci stanno i voli economici, che con 50 euro devi fare il weekend così, è proprio pieno, è proprio pieno, c'è un po' un casino, non giudico, non mi indigno per quello che succede nel centro di Amsterdam, però neanche ne sono attratto, insomma. C'ero già stato, a 18 anni sono andato, come tanti, la settimana con gli amici ad Amsterdam. Certo, il viaggio dei 18 anni. L'ho già capito, era più divertente starsene fuori dal centro a viversi a Amsterdam, a lavorare, a registrare, a incontrare un sacco di musicisti. Poi Amsterdam era già all'epoca piena di gente di tutto il mondo, uno perché loro hanno colonia in tutto il mondo, quindi pieno di gente, poi dei colonizzati che sono andati a vivere in Olanda. E poi ci giravano comunque, ci abitavano un sacco di americani, un sacco di artisti che vivevano lì, era un po' centrale. Io poi non volo, quindi per me era centrale relativamente, però per chi vola a Amsterdam è abbastanza centrale per l'Europa, quindi era ben frequentata, c'era un sacco di... Quando non suonavo, quando non andavo a lavorare, suonavo anche di più, perché c'erano un sacco di locali, stiamo parlando sempre anni 90, quindi anche lì c'erano i locali in centro, intorno a Light's Plane e intorno a Ligurie Space Strat, due punti di Movida, diciamo. C'erano dei locali che si andava a fare jam session, quindi quando non suonavi per lavoro andavi lì, io entravo, mi conoscevano, quel periodo chi girava per locali mi conoscevano, mi chiamavano a suonare, quindi era sempre... si suonava... si suonava sempre, suonavo tutti i giorni. È stata una bellissima scuola, cioè quella è la vera scuola, mangiare bistecca, non stare in giro a confrontarsi con la gente a due metri, che arrivi, se c'hai la chitarra se no ne prendi una che c'è, attacchi dove capita e devi suonare subito bene, quella è la scuola più importante che c'è. Vedi i vantaggi del colonialismo, hanno fatto anche cose buone. Ma allora, visto che ne hai parlato, ti devo chiedere questa cosa che avevamo visto? Tu non voli, tu non voli da sempre? No, ho volato i primi anni, il primo anno che ero ad Amsterdam e anche qualche anno prima volavo, prendevo regolarmente l'aereo, poi ho smesso, problemi di parcheggio, in aereo, problemi vari, ho deciso di smettere e non ho più voluto volare. Ho detto, vabbè, tanto un giorno, così come mi è venuta la paura, così mi passa. Invece ne è passata. Non è passata. C'è una paura, cioè, come ti è venuta all'improvviso la paura di volare? Mi è venuta piano piano, cioè ogni volo che facevo stavo sempre più in para, fino a che poi ho avuto un paio di attacchi di panico l'ultima volta e non ho più volato. Però come fai adesso? Per andare all'estero? In posti lontani come fai? Vado con calma. Ci metto di più, ogni volta, quando devo andare a Londra, ovviamente sempre devi avere più tempo a disposizione, però non è male, perché io mi studio tutti itinerari, ovviamente, fatti a mia immagine e somiglianza, quindi su tutti i posti, i bistrò, i ristorantini, dove andare. Di solito arrivo, se devo andare a Londra, per esempio, arrivo a Calais, lì c'è una taverna dove si mangia il pesce, lì sul porto dove vado, poi mollo la macchina e traghetto dall'altra parte, perché non mi piace guidare a sinistra. Quindi quando vado lì, eh sì, perché poi io ho paura, non voglio prendere l'aereo, poi vado a schiantare in macchina a sinistra. Che pilla rotonda dal lato sbagliato. No, mica sono scemo. E quindi no, poi quando vado lì, poi prendo, se no giro in macchina, in treno e si arriva. Cioè il ponte sullo stretto. Il ponte sullo stretto di Bering, e fai tutto il giro, fai tutta sullo stretto di Key West. Sì, sì, fai Asia Centrale, Russia, Russia, Russia. Appena lo fanno, insomma. Vabbè ci siamo. No prendi, se no devi fare il giro della Siberia. È lunga. E comunque devi fare una parte a nuoto. Devi fare un sacco di macchina, no, macchina in America è impossibile. Una gran crociera? Quanto ci mettono? Sti tre mesi. No, tre mesi dopo guerra. Adesso una gran crociera, secondo me, dieci giorni. Quanto ci mettono? Con la nave so che ci si mette sì, dall'Italia, non so se da Genova, più o meno una settimana, dieci giorni. Ah, vabbè, ci si può fare. Sì, però se calcoli che una settimana dieci, andrà. Un'altra settimana dieci, andrà. Se te devi prendere quattro mesi, perché sennò non guarda qui. Esatto, quindi per ora non ci ho avuto ancora tempo. Una di queste vite, insomma, ci penso. Però è pure bello avere gli Stati Uniti come posto che comunque da bluesman, da persona che ama il blues, avere gli Stati Uniti come posto e dici e poi là ci stanno gli Stati Uniti che prima o poi ci vado. Non è male. Guarda, da bluesman dico una cosa figa, perché me la so studiata e so che è figa, cioè mi servirebbe più la macchina del tempo piuttosto che l'aereo, perché da andare negli Stati Uniti, cioè oggi i bluesman negli Stati Uniti quando vedo i filmati a Chicago o giù al sud, New Orleans, all'effetto che mi fanno, io che conosco blues, cioè mi fa lo stesso effetto di quando vedi i gladiatori al Colosseo che si fanno le foto con i turisti e credo che il ruolo sociale più o meno sia quello. Perché il blues quello là è finito, quindi oggi musicalmente da andare negli Stati Uniti per vedere o Beyoncé o Travis Scott, no, tanto vengono a Roma. Travis Scott, circomasto. Esatto. E quindi comunque il mondo che piaceva a me non c'è più. Quindi l'aereo, sì, ovvio, mi manca, però quando penso a riprendere l'aereo, più che andare a vedere New York o Chicago, penso più a andarmene su un'isoletta calda, panza all'aria, a farmi il bagno. Penso più, mi manca più quel tipo di cose dall'aereo che gli Stati Uniti, insomma. Ma qual è il posto più lontano in cui sei andato? Beh, Tiburtina, giù in fondo, che comunque pure lì c'è una settimana da casa mia, se becchi l'orario sbagliato che piove poi alla fine. Posto lontano, sono andato un po' dappertutto in Europa, sono arrivato al limite, al posto, alla costa dei poeti, dopo Lisbona, dove finisce la terra l'Europa e poi c'è tutto l'oceano che se vai, insomma, giù in fondo, in fondo, no? Arrivi negli Stati Uniti. Quello lì era un posto che volevo vedere e ci sono stato. Ho visto Gibilterra, quindi tutti in poi i confini dell'Europa. Da questa parte, dalla parte verso l'est? No, sono stato a Bratislava una volta, ma tanti anni fa. E poi sì, sono arrivato su sempre Inghilterra, Scozia, Edimburgo, Glasgow, fino lì, poi pure lì c'è il mare. Il tuo arci nemico. Quindi poi è tutto quello che c'è dentro, poi insomma l'Europa l'ho girata un po' tutta abbastanza bene. Quando ero ragazzo parlavo anche un sacco di lingue. Adesso ti ho tornato un po' indietro. Cioè parlo ancora l'inglese, però per esempio ho perso l'italiano, ricominciavo a parlare romano, non so perché. Però ai tempi era divertente, era fighissimo quando andavi in giro in quell'angoletto in alto a sinistra, del nord Europa. Cioè nel raggio di 150 km, tutti i becchi, l'Olanda, il Belgio, la Germania, un pezzetto di Lussemburgo e la Francia. Oggi sembra una cazzata, ma quando tu in quel periodo stavi in tour e dovevi girare quei posti, a parte c'erano le frontiere, non era aperto. Quindi ogni cinque minuti ti dovevi fermare. Cioè se dovevi andare, dovevi fare il giro da quelle parti, dovevi fare Olanda, Francia, era una frontiera. Poi dovevi ritornare. Magari finivi il concerto, andavi a dormire in Germania perché il giorno dopo stavi lì ed era un'altra frontiera. Quindi vivevi sempre col passaporto in mano a stivali di frontiera. E poi non c'era il telefonino, no? Si telefonava con i telefoni pubblici a scheda. Ma cambiando paese, per fortuna quel periodo andava di moda il marsupio, no? Si portava il marsupio. Meno male. Non schifo, però andava di moda quel periodo. E dentro c'avevo la valuta diversa, cioè ti devi portare sempre qualche soldo, i franchi belgi, i franchi francesi, i marchi tedeschi, i fiorini olandesi e poi le schede telefoniche di ogni paese. Perché se ti guardavi la scheda, poi passavi la frontiera, dovevi telefonare a qualcuno, non ce l'è, quindi sennò dovevi andare a fare il giro degli autogrill a cercare una scheda telefonica. Era veramente, insomma, dovevi essere organizzato. Oggi con l'Europa, con la moneta unica, no? Con l'euro e il telefonino, devo dire che è una figata. È molto più facile andare in giro. Molto più facile. Questo è anche un messaggio politico che adesso si sta parlando di chiudere Schengen, perché c'è un periodo di guerra e invece l'Europa unita tutto sommato. Non lo so per la politica, per l'economia, però l'euro, per chi viaggia, per chi si muove e cambia sempre il paese, è comodo. Non è male. L'euro e la libera circolazione delle persone è tanta roba. E viva l'euro. E viva Prodi. No, po'. Viva Prodi. Che c'era messo. L'invitato, lo invitiamo al podcast. No, però, guarda, devo dire, su libera circolazione delle persone, moneta unica, non è male. Mi espongo. No, è vero, è bello. Non è malaccio. Ma tu quindi giravi parecchia questi posti, insomma, anche hai visto... Qui quante lingue parlavi inglese, ma anche olandese avevi imparato, no? Un pochino, sì. E invece, un pochetto. Parlavo inglese perché poi la band era... La cantante era americana, quindi la lingua della band era inglese, si viveva in inglese. E poi, sì, il francese poi ho imparato abbastanza bene, sempre perché poi quando stavo a Parigi avevo una ragazza francese, quindi io parlavo francese o non parlavo. E poi ho imparato per sopravvivenza, per fare la spesa, ma non è che parlavo, cioè comunicavo. Tipo io, volere, mangiare, bere, destra, sinistra, poche altre cose. Però un po' di tedesco, un po' donandese pure, spagnolo, perché poi andavamo anche in tour. D'estate si andava lontano, quindi stavamo spesso nella Francia del Sud, che ci sono un sacco di festival jazz, nella zona dell'Ardèche, dell'Ero, che sono regioni bellissime, tra l'altro. E poi, sì, appunto, quindi francese, inglese, spagnolo, tedesco e olandese. E poi basta, cazzo, cioè sono già tante. Ma invece a livello di cibo, quale cucina ti piaceva di più tra queste? Allora, il cibo non è un problema di posto dove vai, ma è più un problema di quanto puoi spendere. Perché secondo me, in qualsiasi posto del mondo, alla fine, se puoi spendere, mangi, puoi sempre mangiare bene. Quindi cucinavo. E ho imparato a cucinare meglio. A casa, il compagno della cantante, io ero, vivevo a casa loro, ospite, c'era una parte di casa per me. Il compagno della cantante, lei era americana, il compagno era di Aruba. Proprio Aruba, quella dove fanno i siti. Certo, quella dove c'ho... Quella là, esiste. Sono la pecca io lì, ho fatto. No, esiste, cioè, è un posto, esiste davvero. E lui era di là dei Caraibi, quindi usava, lui cucinava bene, era casalingo, tra l'altro. Lei lavorava e lui stava a casa. E usava un sacco di spezie, un sacco di cose che io non conoscevo. Quindi io cucinavo, però sempre, cucina più o meno, sempre appunto dentro al raccordo anulare. Quindi io magari gli ho insegnato a fare la matriciana, la carbonara, gli involtini, le cose anche più elaborate. E lui mi insegnava a fare le cose, il pesce, le cose agrodolci, usare le spezie. E quindi da lì ho cominciato a cucinare. Poi, dovunque andavi, comunque si cucinava bene. In Francia si mangia bene. Se non sei allergico al latte, mangi da Dio quasi dappertutto. No, lo dico perché adesso sono allergico, quindi potrei più mangiare niente. In Belgio hanno poche ricette, ma quelle che c'hanno sono molto valide. In Olanda cucinavo e in Germania, in Germania pure, mi facevo ospitare e cucinavo. Però in Germania, per esempio, ci stanno un sacco di ristoranti italiani buoni. Mentre se vai al ristorante italiano di media, poi ci stanno quelli buoni, sempre se spendi. Però in Olanda, in Francia, se trovi il ristorante italiano, è un disastro. Invece in Germania ci stanno i ristoranti italiani che sono buoni, se vuoi mangi italiano. Poi non so uno che mangia italiano, a me piacciono tutte le cucine. Quando sei in Olanda, se cerchi la cucina olandese, cerca, cerchi, c'è tanto un cerchio. Però ci stanno appunto sempre, come è? Viva il colonelismo, grazie a me. Però c'è la cucina indonesiana che è fantastica, tutto un po' dolce, però buona, interessante, è più sana di tante altre cucine. E anche il Suriname, c'è una colonia in Suriname, un paesino del nord del Sud America. E loro fanno dei piatti molto simili alla cucina venezuelana, però non sono più neri, quindi c'è un po' di misto africano. Insomma, è divertente, insomma, sempre tanto la fietta di carne le mangi. Perché invece la cucina olandese, che sono le patatine fritte, forse, che fanno? Dove? In Olanda? In Olanda, sì, o in Belgio. Lo sai che ancora non ho capito che se mai... Infatti, chissà perché, tipo, in Olanda, ma pure in Inghilterra, che comunque sono paesi che hanno colonizzato tutto il mondo, posti anche dove si mangia bene, e loro non hanno mai preso niente. Ma forse l'hanno fatto proprio per quello, per cercare magari... Qualcuno sapeva cucinare, disperati. Può essere. Dice, dove è un mortorio, andiamo a venire in Africa se c'è un posto che c'è. Forse è per quello, è meglio. Infatti, tutto il mondo sono andati a cercare. Ma questa cosa del cibo, quindi, ce l'hai sempre avuta, perché... Allora, diciamo una cosa, te a Masterchef, a Celebrity Masterchef, hai fatto un figurone, e questo va detto perché vale più di tante cose. Per me vale più di tante cose. Io sto in fissa con Masterchef, mi piace mangiare, cucinare, quindi... Sì, sì, a chi lo dici. Eh, e questa cosa del cibo, quindi te ce l'hai sempre avuta che dici... Voglio capire come si cucina, come si fa, fammi vedere. Io ce l'ho, ho la passione del cibo, ma è di famiglia. Io, vabbè, adesso no, so cambiare, però insomma, quando ero ragazzo, ero la pecora nera, un po' della famiglia, perché ero l'unico che non ha fatto il macellaio. E quindi mio papà, macellaio, tutte e due, i miei nonni, macellaio, un cugino, macellaio, un altro... L'unica branca della famiglia che non faceva il macellaio aveva una pizzicheria, cioè una salumeria, come si dice. Quindi a casa mia si parla sempre di cibo, di carne, di cibo, di come si fa questo, come si fa quell'altro. Mio papà era molto goloso, buon gustaglio, mangiava tanto e cucinava bene. Mia mamma cucinava e cucina bene, quindi si sono fatte sempre delle grandi mangiate. A casa mia i miei genitori spessissimo, sabato sera c'erano feste, gente a cena, stavano tutta la settimana a parlare di quello che si sarebbe cucinato, cominciavano a preparare, a mettere quello a macerare, il sughetto fatto due giorni prima perché deve riposare in frigo. Quindi queste cose le ho sempre sentite. Poi io sono andato a vivere da solo appena finito il militare a vent'anni e quindi sempre per la stessa cosa, cioè che se puoi spendere puoi andare a mangiare molto bene oppure impari a cucinare. E quindi ho imparato a cucinare. Quando ero Pischello ero con le re delle scatolette, una scatoletta di sgombro, una riserva di pomodoro, un concentrato e io preparavo una pasta. E poi piano piano dalle scatolette sono passate ai barattoli in vetro, poi dal barattoli in vetro al surgelato, al congelato e poi al pesce fresco. E adesso che posso permettermi? Sono più grande, insomma, mangio quasi solo panini perché non ho tempo, però... Sì, poi dopo aver avuto il bambino è ancora peggio. Cucino a lui le cose più sane pure e io sto da là a mangiare la pizza avanzata del giorno prima. Però va bene, dai, ci sta, ci sta. Poi vai a cuore, smaltisci tutto. E posso farti una domanda su Masterchef che mi interessa molto? Quando stai là, perché poi tutti a casa ce lo guardiamo e diciamo, eh, se c'è stavo io... Però quando stai... perché un conto è saper cucinare a casa, credo, e un conto è là che ti dicono, questi sono gli ingredienti, c'hai mezz'ora, vai... Gli ospiti che c'ho a casa io sono peggio, comunque... Quanto senti la pressione e quanto è difficile fare i Masterchef? Sono pure celebre di Masterchef, però... No, la pressione è zero, cioè nel senso io non l'ho sentita. Io sono andato a fare Masterchef perché volevo andare a fare una vacanza. Volevo divertirmi, volevo cucinare, quindi no, pressione, pressione no, zero. Era divertente e mi sono divertito, mi sono divertito tutto il tempo che sono stato lì a fare i piatti buoni, quelli meno buoni. Quando si va troppo, si punta troppo su una nouvelle cuisine, queste cose piccoline, tutte colorate, così non è proprio... Tile mio, diciamo, mi fermo a metà. Però era divertente. L'unica cosa che era strana ogni tanto, lo posso dire, tanto ormai avranno risolto il problema, è che lì negli studi televisivi, nelle cucine televisive, non c'è fuoco, non ci può essere fuoco. Induzione. Induzione, esatto. Che è fighissima l'induzione, io a casa adesso ho l'induzione, mi trovo benissimo. Però, quando tu sei in dodici, eravamo dodici, sedici, dodici all'inizio, e accendi dodici piani di cottura, la corrente non ce la fa. Quindi tu, quelli ti dicono, presto, devi fare, entro, hai dieci minuti e cazzo, dammi la corrente, e certe volte si dovevamo fermare, perché... Io te lo faccio in dieci minuti, ma se questo va, capito? Quindi la differenza era che quando iniziavi a cucinare, se cucinevi te, c'avevi il fuoco, l'induzione a palla, e andava benissimo. Dopo un po' era come se cucinavi con cerino sotto la... Madonna. Quindi lì era più complicato. Infatti poi, ovviamente, tanto era registrato, ogni tanto si dovevano fermare, perché non c'era la corrente per tutti, quindi si dovevamo un po'... Però, a parte questa piccola necessità di organizzazione, poi era stata... Ti sei divertito? Sì, sì, mi sono divertito un sacco. Anche perché cucini, c'hai tutti gli attrezzi a disposizione, tutti gli ingredienti, c'hai la dispensa, puoi fare tutto quello che vuoi, e la cosa veramente figa, perché poi gli attrezzi ce li hai pure a casa, e che dopo puliscono loro. E quindi quella è stata una cosa impagabile. Infatti poi di solito verso le 4 di pomeriggio si finiva la registrazione. Però io avevo chiesto nei primi giorni se potevo rimanere lì, e quindi rimanevo poi a cucinare. Fino alle 8 andavo via un casino. Infatti, quando arrivavo il giorno dopo, a quelli che stavano lì, gli stavo diversamente simpatici. Perché stavano là? Eh sì, perché gli lasciavo un casino. Però poi le cose che cucinavamo se ne mangiavamo tutti insieme. Cioè le robe che cucinate, quelli l'assaggiano, l'assaggiano con cosette, e poi il resto lo buttano. Eh, dipende. Dipende come è venuto. Se non è buono lo buttano. Se non è buono lo... Sì, in realtà non lo buttano, ma hanno tutte, parecchie edizioni di Masterchef. C'è un posto per... C'è una parola che mi fa impressione, chiamolo il gattile. Sarebbe il canile per i gatti. Loro erano d'accordo con un gattile. Ripeto, scusate l'espressione, non l'ho coniata io. E tutto ciò che avanzava, ovviamente non si può buttare, che lo spreco. E quindi lo portavano al gattile, che poi sicuramente solo mangiavano quelli che lavoravano al gattile. è perfetto, però... Sì, anche perché quanto male poteva essere andato sto piatto. Però la mossa c'era, insomma. Almeno io lo portavo. Quindi hai la tua al gatto, questa è la cosa alla fine. Che poi era forse... Esatto, e poi c'è uno di un metro e contanto all'affari che ti fa miau. Dammi, ecco, sono il gatto, piacere. Bello. Ma tu c'era qualcuno con cui temevi, con cui eri più in competizione, che avevi paura di quell'altro, cioè il concorrente che temevi di più, qual era? No, temevo no. Competizione no, perché poi quando cucini è come quando suoni, non c'è... Io non so il più bravo chitarrista, io so il più bravo a fare Alex Britti. Io so il più bravo a suonare come Alex Britti. E nella cucina ovviamente è la stessa cosa. Non sto a livello, ovviamente, lì so, ma tutto a livello amatoriale. Però con quelli più bravi sono quelli che invece ci ho legato di più, perché eravamo, anzi, eravamo noi i più bravi, gli altri, fa Tempanino. E chi erano i più bravi? C'era Roberta Capua che poi ha vinto quell'edizione e c'era Maria Grazia Cucinotta che cucinava molto bene. Poi anche qualcun altro, però con loro due... No, cioè, giustamente. Eh sì, abbiamo legato di più se non altro perché siamo coetanei e ci fermavamo spesso appunto con loro proprio a scambiarci. Hai fatto quella cosa, come la fai? Ok, aspetta. E noi tre ci fermavamo spesso anche dopo la registrazione a imbrattare tutto, a continuare a cucinare, a sporcare, sempre perché tanto più pulivano. C'è stata la Sky. No, il giorno dopo tornavi era stato solo un brutto sogno, tutto perfetto, pulito, figata. Bellissimo. E chissà se pure per quelli che non fanno celebri di Masterchef, ma Masterchef normale è così, credo di no, mi sa che là c'è molta più tensione, cioè diciamo... Dipende, sai, quelli che fanno Masterchef spesso vanno lì perché hanno un modo per prendersi una visibilità, no? E spesso cercano, cioè fanno Masterchef, Masterchef è una via d'accesso magari a un ristorante, a una cucina importante, magari a uno stellato. Mentre noi, chi più, chi meno, un lavoro già ce l'abbiamo, no? Quindi vai lì a cuore leggero, vai lì per divertirti, a cercare di, di far bella figura soltanto perché c'è la passione per la cucina e ci piace far bella figura, quindi ci vai con un altro spirito completamente. E questa cosa, questa passione per il cibo, per la cucina, quanto, non dico condiziona i tour che fai, però un po' sì, cioè quanto dici, ah mo, c'ho la data là, fammi andare il giorno prima perché voglio mangiare a me sta cosa. Sempre, fisso, sempre, tutti i concetti che faccio. Ma proprio sempre, ma non lo sto a dire così perché voglio far ridere, cioè quasi tutti i concerti, c'è sempre o il giorno prima o il giorno dopo. Io il giorno del concerto non mangio quasi, sono distratto, c'ho da fare. Dopo il concerto difficilmente mangio perché sennò è tardi. Poi dormi col cinghiale sullo stomaco, ti svegli a bere l'acqua frizzante di notte e non va bene. Però di solito c'è un giorno concerto, il giorno dopo un altro concerto e poi il giorno che dall'ufficio mi dico, ah, poi c'è un giorno libero, magari devi fare 800 chilometri in macchina e in quegli 800 chilometri ho un modo di fermarmi qua o là in giro in Italia. Io ho una mappa di ristoranti che quello che fa la guida Michelin davvero mi spiccia a casa, nel senso li conosco più io. Ristoranti, alberghi, perché poi non vado solo per stellati, ma vado per ristoranti, trattorie, pure quello che fa il panino, basta che è buono, basta che c'hai la materia prima buona, i prodotti buoni, quindi poi mi mi fermo. infatti sono... Facci una lista, cioè... tu si scherzi, ma... A parte, la lista si può fare, però cambiano, cambiano sempre le cose, perché quello va in pensione, nel ristorante dove prende il figlio e dopo tre anni è tutto cambiato, quindi cambiano. Però c'è questa lista che non scrivo, però... Tu scherzi, ma a me mi chiamano tutti gli amici, ti dicono, Ale, sto a Catania, dove posso andare a cena? Capito? O quell'altro mi dice, Ale, sto a Trento o sto a Perugia, ho capito, nei posti e gli dico sempre dove andare a cena e otto su dieci gli so dare una risposta esaustiva, insomma. Ma questi perché tu li scopri, cioè, provandoli tanti e poi dici questo me lo ricordo oppure c'è un metodo per capire qual è il miglior ristorante? un po' dei ristoranti buoni se sei uno appassionato come me non sto scherzando c'erano prima le riviste specializzate adesso stanno i siti di malati come quelli sulle chitarre che dice ho preso quella lì o quelli che vanno in bicicletta che ci stanno i forum dove si dicono che cambio mai che pedali usi che ruote e chi ama mangiare ci stanno dei forum ci stanno delle cose in giro online che cerchi ho provato quello dice ho provato sto ristorante che non è trip advisor quella roba lì roba più per professionisti insomma e poi li provo e poi li provo quando arrivo lì chiedo ogni volta che arrivo in qualche posto chiedo a quelli del posto gli organizzatori o qualche tecnico qualche facchino magari gli dici oh da queste parti dove si mangia se sei scoperto dove si mangia bene e provi una volta uno una volta un altro e poi quando becchi quello che si mangia bene boom sfondi ci vai pranzo c'è colazione ma tutti i giorni che stai lì e quando ripassi da lì poi c'è stato c'è un purtroppo c'è stata una c'è stato come quando fai la linea al totale c'è stata una divisione un muro di Berlino importantissimo che è stato il covid perché c'è il pre-covid e il dopo covid dopo covid è cambiato tutto quindi quindi devo ricominciare cioè ho già ricominciato da capo tanti ristoranti hanno mantenuto comunque uno standard buono però è cambiato tanti è cambiato tanto tanti sono chiusi tanti hanno chiuso tanti sono rimasti aperti non mantenendo la stessa qualità e tanti invece sono sbucati dal nulla raggiungendo in poco tempo una buona qualità ma tipo la miglior carbonara a Roma qual è? la faccio io vabbè e allora pochi per volta due tre quattro per volta per ora per terra poi appena prenderò un tavolo farò pure cena seduto picnic con carbonara più buon picnic però però la carbonara addirittura l'hai esportata in Olanda negli anni 90 guardate che vi faccio io uova e guanciale immagino all'epoca pancetta perché comunque allora allora io vorrei sfatare alcuni limiti cioè non mi piace quelli che dicono che non so la carbonara si fa solo col guanciale oppure solo con quello ognuno la fa come gli pare se non c'è il guanciale usi la pancetta non sarà come quella del guanciale ma io ti posso fare la carbonara con la pancetta e te cioè senti una cosa buona e non mi stai a dire perché anche sul guanciale che vuol dire? c'è qualità e qualità di guanciale quindi è meglio una pancetta buona piuttosto che un guanciale cattivo e poi la cucina tradizionale popolare quella che ha le radici più è una cazzata perché ogni pianerottolo ogni famiglia ha una modifica la fa stile sua c'è quello che ci mette che ne so la grattatina e la neroce moscata quella che ci mette il pecorino però con un po' di parmigiano ogni famiglia la fa diversa quindi in realtà la ricetta perfetta la ricetta depositata inziae non esiste ognuno ci mette un po' di quello che c'è quando stavo in Olanda questa faride un po' fa capire come funziona la scelta degli inglesi poi parliamo di musica questa è come Gesù Gesù faceva le carbonare e poi è diventato forse quando stavo in Olanda mi chiedevano tutti quanti conoscono perlomeno negli anni 90 adesso magari qualcosa in più conoscevo il tiramisù faccio il tiramisù faccio il tiramisù fare il tiramisù nel 90 in Olanda era un casino perché non trovavi gli ingredienti cioè tu vai a dire a uno che vuoi il mascarpone non lo sa o le varie cose il mascarpone poi l'altra cosa erano i savoiardi ma come io lo spieghi a uno a uno indonesiano che vive in Olanda che capito non vai quindi avevo trovato una sola poi aspetta quando la trovavi la trovavi dal posto dall'alimentare italiano che stava in Amsterdam stanno dalle parti di Beethovenstrat che è la zona un po' più pariola che quindi trovi le cose più buone più care ma andai a comprare cioè due etti di mascarpone dove vendere la chitarra e quindi non si poteva fare e l'altra cosa i savoiardi ma te come fai a stare in Olanda vai a spiegare a uno che so i savoiardi cioè vabbè quindi da dati allora che cosa facevo io facevo che lo chiamavo il take me up però facevo allora invece dei savoiardi ci stanno dei biscotti che chiamano qualcosa tipo i finger cookies le dita che infatti il savoiardo se ci pensi somiglia a un indice faccio l'indice perché se faccio l'altro dito poi pare brutto e poi invece del mascarpone c'è un formaggio che c'è un po' in tutto il nord Europa anche in Germania in Francia che si chiama il quark che di solito fa ride ah quark ti vedi Piero Angelo no è un formaggio ed è un formaggio morbido spalmabile che puoi usare sia salato che dolce eventualmente un po' come il mascarpone il mascarpone si fa anche i piatti salati e però ovviamente il quark lì costa poco non costa come il mascarpone così i biscotti a dita poi invece del whisky o l'Alkermes ci mettevo il Geneva che è un liquore olandese che costa una cazzata e quindi prendevo tutti gli ingredienti del posto e simulavo poi mischiavo che ne so il quark c'è una consistenza diversa allora ci mettevo appena appena un po' di panna montata per renderlo più cremoso e alla fine abbozzavo una cosa che somigliava molto il tiramisù però era fatto con ingredienti locali e mi costava metti che ne so fan tiramisù a penacena costava 5 euro invece di 70 euro capito e questa cosa perché stava di sta cosa mi sono scoperto sulla carbonara più buona che gli ingredienti esatto quindi cambi sempre gli ingredienti cioè rispetto tu ti adatti sempre ma com'era come stava era buono alla fine il take me up si si buonissimo si si poteva fare si poteva fare io pure una volta ho fatto le lasagne con le sottilette spettacolari è più buone che ho mai mangiato basta che non lo dici esatto ma se non dici agli ospiti ero in Irlanda stavo lì c'è stavamo la pescianella in Irlanda gli avrei fatto un miracolo dici si oppure hai fatto una carbonara col cioriso che comunque è buono comunque è buono a tutto c'è buonissimo un limite però in Irlanda carbonara col cioriso gli cambi la vita è buona secondo me sono d'accordo con queste sperimentazioni bisogna sempre arrabbiare se sono impazziti carbonara col cioriso hanno rotto un bicchiere no a tutto c'è un limite la carbonara nostra dai bisogna sempre adattarsi cioè quando si va all'estero non puoi andare all'estero e poi ti lamenti che non trovi tutte le cose dell'Italia è normale se andare all'estero quindi con un buon spirito di adattamento poi cucini tutto quello che trovi carbonara cioè immagina sta Amsterdam Amsterdam nel 90 perché oggi è diverso poi ci stanno i supermercati quelli belli che si chiamano Albert Heijn e oggi se vai in qualsiasi Albert Heijn in giro per tutta l'Olanda trovi De Cecco Barilla i sughi salumi citterio cioè oggi trovi tutto i parmigiani i pecorini forse anche i pecorini non ti dico i parmigiani ma forse pure qualche pecorino oggi più o meno trovi tutto costa un pochino di più ovviamente però si trova tutto nel 90 era era più complicato per esempio e poi c'era quella cosa del prezzo poi c'erano queste cose tipo la pasta fattucci dal 1900 in Italia quella bandiera mai sentita in Italia ci sono queste cose e quindi compravo invece per fare la pasta gli spaghetti compravo i Sutsi Won che è la marca cinese quella che era De Cecco cinese che però costano un quinto della De Cecco quando stai all'estero e sono buoni sono buonissimi sono esattamente come i nostri poi mi scrive l'amministratore delegato di De Cecco però sono buoni se mangiavano ma sì me ne sono mangiati a tonnellate e arriviamo adesso adesso arriviamo Alfa di Dico 98 ok avevamo cominciato la domanda 40 minuti fa però è giusto così è giusto così stai ma te ti sei pigliato un'altra birra madonna ma stai on fire ma fra un po' ne chiedo uno anche io eh tirami su mette sete eh sì perché a fura di parlare di cibo Stefano me nel 1998 dicevamo fai er botto perché nel frattempo ho quasi finito la birra quindi il è diventato er com'è cioè 30 anni non sei non sei un ragazzino non sei un ragazzetto sei un giovane uomo e a un certo punto fai il botto fai il botto in Italia non sei in Olanda non sei fuori com'è fare quella roba là cioè fai il disco c'è il singolo numero uno in Italia tutti si sentono le canzoni tue com'è com'è è una figata pazzesca però però allora io ho sempre avuto una percezione mia personale cioè io non ho fatto il botto e ho sbagliato anzi questo è quello per cui ancora continuo a sbagliare il modo in cui ti poni cioè non ho fatto il botto io ho fatto il botto le canzoni le mie canzoni hanno fatto il botto quindi ho sempre continuato a percepirla nello stesso modo cioè io sono sempre lo stesso non cambia niente zero sì poi ovviamente più responsabilità ma quelle con gli anni arrivano arrivano comunque quindi hai una percezione bellissima fantastica che sei un musicista e so anni tantissimi anni già che ti svegli sempre a pensare a chitarra intrippato a quello che devi scrivere ancora la mattina capito la classica mattina che ti svegli col tazzone di caffè in mutande e già prendi la chitarra oppure ti senti gli appunti che ti sei registrato cioè quella è stata sempre la mia vita e quella ha continuato ad essere la mia vita l'unica cosa che è cambiata tanto ovviamente che prima le canzoni che scrivevo prima non ne cagava nessuno invece dopo hanno cominciato a piacere ad andare in classifica e quindi questa qui è stata la prima percezione poi dopo dopo un po' per è ovvio che mi sono accorto che avevo fatto il botto anch'io dalla riconoscibilità da quando cammini per strada e ti fermano continuamente e quella cosa lì e quello è più complicato da gestire proprio perché forse se ti succede presto a vent'anni è un conto a trent'anni poi io già appunto vivevo da solo da tanto sei già strutturato quindi dover cambiare poi radicalmente la modalità di vita la quotidianità che non è il lavoro ma vuol dire che che se vai al bar a berti un caffè e ti compri il giornale ci metti due ore e mezzo perché devi fare foto con tutto quindi poi diventa comincia a diventare complicato ma proprio nella gestione logistica delle cose cioè in appuntamento a mezzogiorno dici vabbè sono le 11 vado a bermi un caffè al bar torno doccia veloce e poi a mezzogiorno no se devi andare a prendere il caffè al bar e c'è appuntamento a mezzogiorno ci devi andare a 9 e mezzo al bar quindi poi alla fine non ci vai e quindi alla fine devi fare i conti appunto con la popolarità che non è soltanto la popolarità delle canzoni ma è quella tua quindi con la riconoscibilità ecco e io in questo per quanto è una figata il fatto musicale con questo invece mi sono sempre un po' scontrato credo di non essere di non essermi mai sentito né avere ambito a diventare un divo però a volte quello è invece il ruolo che ti chiedono e su quello mi sono trovato sempre un po' infatti poi io poi dopo piano piano ho imparato così l'ho metabolizzata come cosa però all'inizio è stato proprio uno shock infatti io ho fatto 98 disco Sanremo 99 e poi nel 2000 per ritornare in me stesso un pochino me ne sono andato e sono stato tipo 7-8 mesi su in Olanda poi sono tornato ho fatto il secondo disco La Vasca è stato anche quello un bel successo e dopo La Vasca anche lì me ne sono tornato tipo 6 mesi 6 mesi in Olanda e poi poi no poi dal terzo disco in poi da 7000 caffè da quel periodo del 2003 i primi 4-5 anni sono stati abbastanza conflittuali col ruolo quello di personaggio pubblico perché comunque è strano ti cambia tutto poi dopo cioè ho capito meglio e ho continuato ad avere un rapporto conflittuale però lo sapevo più più gestire credo e cose strane cose strane che succedono quando sei un musicista pubblico nel 1999 hai suonato al fine primo tempo di una partita Europa resto del mondo e a Roma? penso di sì allo stadio olimpico Coppino? sì come ti dicono vuoi suonare all'olimpico al fine primo tempo della partita Europa resto del mondo e tu dici ma che cazzo che concerto è che partita è e che concerto potrà mai essere e dici vabbè sì questo proprio anni 90 pieni anni 90 per anni 2000 com'è fare un evento così che tu sai che non è un concerto e il fine primo tempo è una partita che pure è strana perché che cazzo è partita è beneficenza tutto straordinario ti ricordi? sì sì me lo ricordo bene perché vabbè quello è un luogo cioè a me mi dicono vuoi andare a suonare lì so che c'è tanta gente e mi piace poi era la partita ovviamente vista la squadra strana le squadre strane era beneficenza quindi mi ricordo che ho dato l'ok e poi anche perché dovevo suonare con Pino Daniele che stimo tantissimo è stato uno dei più grandi che ci sono mai stati quindi ero contentissimo e lusingato di suonare di suonare con lui quindi poi insomma anche se doveva già era la partita strana ma pure se avessi dovuto suonare con l'ostia mare o l'alma strastevere ci sarei andato lo stesso perché suonare con Pino Daniele non mi capitava tutti i giorni poi lì era all'inizio invece era una partita comunque figa lo stadio olimpico pieno di gente e durante l'intervallo hanno montato un palco al centro dello stadio abbiamo suonato io e Pino con due chitarre con le chitarre acustiche così tipo a casa però in un posto però con 75 mila anzi forse nel 99 anche 85 mila che le cose di sicurezza dell'olimpica erano con un sacco di gente però era bello poi non conoscevo le squadre ma poi io non lo seguo neanche il calcio quindi seguo solo a Roma poi il calcio non mi interessa che è un modo no quindi certe volte quando mi dicono i nomi delle squadre veramente io seguo soltanto la Roma quindi i nomi delle squadre non le so e poi la seguo anche comunque in modo in modo mio anche il mio essere romanista sono romanista sfegatato quando vedo le partite ma a veleno poi però se ho da fare se ho i cazzi miei sto a suonare mi sono comprato una chitarra nuova magari per due o tre settimane mi dimentico del campionato del calcio quindi mi ritrovo la Roma in un'altra posizione di classifica ma di solito sotto e non me ne ero manco e non me ne ero neanche accorto magari Roma Monza a mezzogiorno te la perdi e magari ti vedi partire in coppa ci sta ma il calcio ma la perdo ho visto e sei matto ho detto il calcio no ma la Roma la seguo sempre ma invece lo conoscevi già Pino Daniele o l'hai conosciuto in quell'occasione l'ho conosciuto in quell'occasione personalmente l'ho conosciuto in quell'occasione e come è stato quell'incontro carino due musicisti che si incontrano e vogliono suonare insieme abbiamo fatto le prove la prima dentro una specie di sala prove e poi visto che eravamo a due chitarre acustiche lui carino dovevamo fare un'altra prova mi ha fatto no ma quale stava via a casa mia dai se favo due spaghetti a casa sua come cucina Pino Daniele? no ha cucinato la moglie noi suonavamo eravamo impegnati quindi situazione casa si moglie e cucina bambini figlia piccola era tanti anni fa quindi molto musicista musicista una persona normale ma di quel mondo lì appunto musicista di quegli anni tu con chi avevi rapporti più stretti? ma di di famosi nessuno non ah ok non conoscevo conoscevo tanti sfamosi che però erano bravi musicisti però di musicisti famosi pop ancora non avevo suonato non avevo conosciuto nessuno tranne avevo suonato l'estate prima con Irene Grandi che all'epoca poi si spingeva un sacco era era forte però perché facevo il chitarista suo quindi ero ma forse hai parlato con lui che dice che hai cominciato con Mascazze forse a suonare no oppure no ho iniziato a suonare cioè non è che ho iniziato a suonare con Mascazze c'è stato un periodo che eravamo io era il 96 cominciavo 95 cominciavo a voler viaggiare di meno cioè volevo partire di meno per fermarmi sempre di più in Italia per fare delle cose lui pure era stato tanti anni fuori era appena rientrato in Italia cercavo un bassista e mi avevano presentato Max e iniziò a suonare il basso col trio mio che c'avevo all'epoca un trio di blues di cose molto estreme quando li risento adesso capisco perché non mi cagava nessuno all'epoca c'è una testimonianza di questo chi trova nelle teche Rai che cosa che so queste teche chi può accedere a queste teche però se dice così in televisione senti di così chi ha se conoscete qualcuno in Rai nel 95 c'era il concertone del primo maggio quello di San Giovanni dove io ho suonato col trio era Alex Britti blues band e feci l'esibizione con Max al basso a che ora a che ora in che senso a che ora vanno fatto pomeriggio pomeriggio nel mucchio sì sì nel mucchio certo perché lì si capisce quanto vieni verso le quattro e mezza di pomeriggio vuol dire che sì ma anzi ti ho detto risentendo la testa anziché ci hanno fatto non ha perché io ma come sì che forse sembrava una cosa quasi contro i lavoratori per come stanno sì bravo bravo veramente c'è un'altra domanda in quegli anni anni 2000 comunque tu hai fatto la canzone mi piace no e come hai preso il fatto che veniva cantata ogni volta a inizio esibizione da Gabriele Cirilli quando faceva il personaggio di Crusca non allora ma l'ho presa bene nel senso un po' conosciuto Gabriele simpatico e tutto però prima che io diventassi popolare famoso non non c'avevo la televisione a casa e anche per un po' d'anni dopo non c'avevo la televisione c'avevo a casa un monitor che ho attaccato un VHS per guardarmi le cose che mi davano registrato i film però non vedevo televisione quindi quando ho conosciuto Gabriele glielo dico tanto io lo conoscono non è che sto a parlare è venuto anche qui ospite sì lo so lo so l'ho conosciuto una volta a una partita di calcio di beneficenza dove giocavamo era il periodo che lui aveva quel personaggio che andava molto di moda e nello spogliatoio è stato tutto il tempo a farmi però mi piace faceva sempre però mi piace chi è Tatiana chi è Tatiana io non lo conoscevo e quindi cioè si era pure messo vicino a me a un certo punto sono andato se non lo conosci è strano se non capisci che sta a fare dici guardi io non mi piace capito quindi no arrivi nello spogliatoio la prima volta questo accanto a te uno che non conosce però mi piace ridi sì che ridi poi dopo un po' però mi piace sì dopo un po' se andava uno mi dicevo ma chi è sto rompico poi mi ha detto guarda è un comico quello è un personaggio che funziona così poi l'ho conosciuto se non siete a cena andate a vedere un spettacolo suo insomma poi l'ho conosciuto è uno molto carino a volte meno perché mi sa che qui non è stato vabbè a brillato a brillato qua è venuto a brillato sì sì a brillato ok sì sì non sta simpatico a qualcuno dopo la puntata che ho fatto con voi però no a qualcuno no però a noi sì a qualcun altro a qualcuno per niente no no probabilmente no vabbè a fare i loro sono attori noi siamo chef che ci frega esatto noi siamo qua per cucinare ma sì ma figure bello in realtà c'è una cosa che mi incuriosisce mi hai detto ah mi piace che quello cantava mi piace no mi faceva piacere quando ho capito chi era che era un personaggio che era un comico mi ha fatto piacere prima mi ha pure un po' spaventato ho detto oddio questo è matto chissà che fa certo no meno male tutto è bene quel che finisce bene sì sì hai detto che la televisione non sei proprio il numero uno a guardarla che non eri non sei molto aggiornato sulle cose ma per fare pensi che tu ti debba tenere aggiornato per fare musica cioè aggiornato sulla cultura pop sulla cultura sulle cose attuali per fare musica cioè adesso esce il nuovo singolo lo scrivi è una cosa tua o devi scriverlo che è una cosa tua inserita in un contesto no ma cioè in realtà l'ho rubato il pezzo nuovo l'ho copiato da un pezzo svedese che gira ecco il segreto allora a me piace cioè io sono curioso in generale nella musica poi ancora di più ovviamente quindi mi piace mi piace come dicevo prima da Pischello che suonavo volevo saper suonare suonare tutto quindi mi sono studiato un po' dei country che ce devi fa' col country non lo so intanto imparo quel linguaggio e lo metto da parte mi sono studiato un po' del flamenco mi sono studiato un po' tanto jazz blues quindi le cose diverse mi affascinano a prescindere e nelle cose diverse poi c'è sempre chi le fa male ma anche chi le fa bene quindi sono curioso di base e cerco sempre di di recepire tutto quello che succede ma non perché devo non perché devo in quanto cantante anzi la maggior parte dei cantanti cioè ognuno ha il suo modo di fare i dischi e fa per 30 anni sempre quel suono sempre quello stesso disco così quindi sarebbe anzi quando uno raggiunse il successo di solito li chiudono dentro una stanza iperbarica e non mi fanno sentire niente e fanno soltanto quella cosa invece io mi informo ma perché perché sono perché sono curioso perché perché mi piacciono le cose le cose diverse cioè mi sono intrippato a sentire di tutto anche delle cose che adesso fanno ridere cioè se vai a sentire un concerto di tre ore solo dei due indiani che suonano uno il Sarod e uno il Tabla cioè che adesso manco se mi pagano se andrei però però ho capito mi sono sentito veramente di tutto c'avevo i dischi un periodo mi ero intrippato mi sono comprati un sacco di dischi un clarinettista bulgaro che si chiama no no è vero però è fortissimo cercatelo su da qualche parte si chiama Ivo Papasov ed è un virtuoso del clarino e già suona il clarino e quindi mi ha intrippato questo poi dici ti sarà servito lui per essere ispirato alle canzoni che fai spero di no però però me lo sono sentito mi piaceva me lo sono sentito un sacco poi appunto c'è avuto il trip per periodi appunto quando sperimentavo quindi la musica indiana mi sono andato a vedere Ravi Shankar a Santa Cecilia ho visto un sacco di concerti di qualsiasi tipo di musica e quindi adesso mi fa ridere perché no quando arrivano dei nuovi tipi di musica va sempre bene se funziona e a qualcuno piace vuol dire che dentro hanno un'alchimia hanno un qualcosa io voglio capire voglio capire cosa hanno poi non vuol dire che mi sento quella cosa dalla mattina alla sera adesso va di moda per esempio tutti quelli fighi danno addosso alla trap oggi se dici i trap tutti così poi sono gli unici che vendono sono gli unici che fanno però quello è un altro discorso e poi la trap certo perché ho nominato la trap è molto in modo il discorso no nel senso che c'è anche lì no perché poi c'è un sacco di amici che la fanno però anche lì c'è nella trap poi diciamo nel rap in generale poi la trap è ancora più diversa il rap è un po' più nobile la trap è un po' più boh un po' più poppetta è un po' più commerciale quello che una volta si diceva il commerciale però anche lì c'è quello che la fa bene e quello che la fa male come nel rap ci stanno oggi i rapper li vendono pure al supermercato hai i quattro le quattro barre in padella e chiunque ti scarichi due cose da splice scrivi due cazzate e sei rapper però questa cosa chi c'era io ho sicuramente qualche mese più di voi e già c'ero negli anni fine 70-80 quando si andava c'era un locale a Trasterio che si chiamava il Folk Studio e al Folk Studio dal Folk Studio sono usciti De Gregori Venditti e qualche un altro però se tu calcoli che al Folk Studio nei mesi che non faceva caldo tutte le sere suonava qualcuno quindi suonavano almeno 200 artisti a sera per 30 anni e se ce ne ricordiamo soltanto due vuol dire che l'artri ce li siamo facilmente dimenticati ed era come la trap oggi quindi i cantautori degli anni 70 sono fighissimi i dischi di Gregori chi li tocca il Venditti a me piaceva Stefano Rosso mi andavo al Folk Studio a sentire Stefano Rosso ed erano bellissimi però certe sere veramente andavi al Folk Studio a vedere uno che sapeva fare veramente il cantautorato di quegli anni che poi non si può parlare male del cantautorato per carità però anche due palle cioè c'era uno che conosceva tre accordi in croce presi male coi dita rotte e ti cantava una nenia dei chilometri di parole due ore che ti raccontava tutta la storia degli operai che sono stati cioè sì a livello sociale umano però allora mi vedo il telegiornale non vado a sentire uno con la chitarra mi vedo uno speciale mixer cioè e quindi anche il cantautore che oggi ci ricordiamo quelli più nobili insomma il cantautorato se ne vogliamo parlare non ce n'è demonenza dico è bello che per uno che non ha la televisione però speciale mixer comunque è una referenza proprio specifica minori anni 80 è molto bello però ecco quindi anche adesso adesso va di moda condannare la trap e invece anche nei trapper c'è sicuramente quello più valido e quello meno valido poi quando giudichiamo la trap dobbiamo sempre non dobbiamo dimenticarci che è rivolta ai ragazzini quindi che non ci piace è normale è grazie è come se non lo so negli anni 90 dici ma non ti senti le canzoni di Cristina D'Avena no fumo due pacchetti di Marlboro al giorno lavoro perché me devo sentire noi buffi capito e la trap è la stessa cosa quando parli no è vero perché poi i testi soprattutto lascio perdere la musica ma i testi della trap t'ho pacchato t'ho gazzato il telefono era spento t'ho whatsappato io ho più sordi di te è grazie che non ci interessa insomma però se avevamo 15 anni invece è una cosa una cosa fighissima e poi a me visto che li vedo come ragazzini ormai c'è una certa ne stanno simpatici mi fanno scattare anche se dicono delle boiate pazzesche però mi fa scattare l'istinto paterno e quindi alla fine li guardo non sto lì a giudicare quello che dicono ma so è come i ragazzini io ho un bambino di 6 anni è come mio figlio quando dice le parolacce dice vaffanculo ride tutto divertito gli sembra del fatto quella è la stessa cosa dicono le cose che di solito non si possono dire allora loro le dicono e fanno ho visto che hanno detto ma perché perché so ragazzini ed è giusto e hanno tutto il diritto di essere ragazzini e poi c'è stata la roba trap che mi piace che mi piace un sacco da parecchi anni ormai è una roba quasi vintage però c'è il pezzo british da Dar Polo Gang che a me mi fa in un sacco in un sacco di playlist me la metto o il rap il rap poi di quello che ti pare abbiamo passato generazioni di rap così poi quando un po' di anni fa è arrivato Salmo cioè Salmo spacca io mi ricordo ho sentito la prima volta estate del merda mi ha sbattuto al muro un pezzo della madonna o 1984 mi ha fatto in sacco Maurizio di pezzi proprio forti quindi non ce la prendiamo mai con un genere ma semmai nello specifico con quello dicendo nome e cognome dici quello non mi piace però parla male di un genere la facciamo i nomi vai io faccio i nomi di quelli bravi poi gli altri è meglio giusto giusto lasciarli belli quindi adesso che comunque sono tanti anni che sei nella industria direbbero in America quando esce la canzone nuova sta uscito il singolo nuovo quanto quanto è difficile allora diciamo ci sono etichette distribuzioni produzioni che si aspettano che esca la canzone di Alex Britti a forma di canzone di Alex Britti te invece vuoi fare la canzone che te pare a te quanto riesci a dire non mi rompete il cazzo o quanto è difficile dire io faccio la canzone mia poi che voi vi aspettiate che rientri in certi parametri questo era più all'inizio era più all'inizio quando stavo più in ansia della classifica eccetera ti ringrazio e dice adesso quando esce una canzone che tutti aspettano una canzone nuova di Alex Britti ma non penso che adesso sinceramente io penso che mi aspettano quella canzone mi aspettavano vent'anni fa ormai se uno che ogni tanto tira fuori una canzone poi sì ho il mio zoccolo duro gli affissionati che aspettano la canzone però non è che ci stanno tutte queste aspettative non ho l'ansia da classifica da radio tanto poi oggi c'hai percorsi alternativi magari una canzone non va in radio e poi ti fa due milioni di visualizzazioni online quindi ci sono percorsi alternativi quindi se già me ne fregavo prima oggi proprio faccio quello che mi piace faccio le canzoni che trovo che siano divertenti con i testi spero più accattivanti possibili ora dopo un po' di silenzio quest'estate sono uscito con un pezzo nuovo Tutti come te che è un pezzo di puro cazzeggio estivo un cazzeggio ovviamente diverso da quello che facevo vent'anni fa più ragionato quindi c'è questo suono un po' più attuale con la chitarra in un certo modo oggi tra un po' esce Supereroi che è proprio un pezzo un pezzo funky tempo funky una volta si diceva funky oggi come si dice? no penso che ancora hip hop se levi la voce mia ci puoi cantare un rapper ci puoi far mettere eh già vedi quindi è una base più attuale però è una base blues col basso suonato blues la chitarra blues a palla dappertutto quindi non ci penso prima un pochetto ci pensavo anche se credo di essere stato sempre uno di quelli che ci ha pensato di meno cosa dovesse funzionare oggi è ancora è ancora diverso in produzione quando i produttori i producer devono fare i pezzi nuovi oggi si guarda vai o Spotify o varie classifiche guardi i primi dieci che stanno in classifica e cerchi di clonare il suono di quella canzone quindi poi più o meno quando anche fai i zapping sulle radio sulle varie playlist il suono i suoni di cassa rullante i suoni più o meno sono quelli e quindi e quindi non ci andrò non ci tornerò mai su in classifica perché faccio altro però oggi mi appaga di più fare altro che fare la appunto che entrare che sottostare a certe regole per entrare in certi canoni che non sono i miei bello non ho capito l'ho detto sono un po' incartato io l'ho capito penso sia molto bello adesso Stefano ti andai in bagno c'è una domanda vai vai a fare questa tua cosa ma sì no è seria ma tu hai anche fatto un concerto in cui c'era anche Corrado Guzzanti che veniva con te sì sì il primo anno l'estate del 99 era un tour era un tour solo abbiamo fatto tutto un tour l'estate del 99 ma ecco come funzionava cioè voi eravate giravate lui era sempre con te allora io dovevo andare in tour volevo andare in tour però ho fatto solo un disco quindi pur suonando tutto il disco e facendo gli assoli lunghi posso fare un concerto di un'ora un'ora e un quarto e non è un concerto per me non è un concerto di fare cover non mi andava allora insieme a un amico che fa l'autore è diventato anche un autore importante oggi Sergio Urbino che saluto Sergio mi disse l'idea dice ma perché allora se c'è questo problema non dividiamo non facciamo invece del concerto facciamo uno spettacolo articoliamo uno spettacolo lo scriviamo cerchiamo di di dare una regia al concerto così diventa uno spettacolo e ha il pretesto per fare tre ore di spettacolo pur suonando un'ora e mezza e quindi abbiamo fatto gli spettacoli erano articolati in questo modo iniziava una band locale a chilometro zero dovunque stavamo c'era sempre una band perlomeno regionale se non proprio della città e apriva il concerto e gli facevamo aprire il concerto quindi iniziavano e si facevano i loro venti minuti mezz'ora l'ultimo brano che suonavano salivo io sul palco e suonavo la chitarra con loro quindi mi mandavano i brani me li studiavo e sul finale lungo sai quando dal vivo fai il finale lungo no? che c'è e lo tieni su quel finale lungo entrava Corrado che faceva un personaggio dei suoi uno dei più esileranti tra l'altro che era Lorenzo Lorenzo quello c'è perché ho sacerne quello e faceva quello lì che faceva finta di essersi sbagliato cercava il bagno invece era finito sul palco e faceva il suo pezzo mentre gli altri piano piano se ne andavano io rimanevo sul palco a dargli gli attacchi a fargli da spalla e poi alla fine riuscivo a convincerlo dai lasciamo questo è un concerto lasciamo fare lo spettacolo e riuscivo a portarlo via quindi nel frattempo si era già fatta mezz'ora di band che apriva e 10-15 minuti di Corrado che faceva che faceva Lorenzo dopodiché portavo via Lorenzo c'era Radio DJ che era un terzo complice e saliva un DJ della radio Albertino o Paoletta all'epoca o Prezioso uno dei tre che giravano in base a chi era libero e faceva mezz'ora 40 minuti di discoteca quindi si alzavano due torri con le cubiste sopra scosciate luci casino e quindi diventava una discoteca dopodiché dopo una mezz'ora di discoteca sempre iniziando a suonare sulle basi della discoteca in quella modalità partiva il concerto e io facevo all'incirca un terzo del concerto dopodiché saliva Corrado e veniva a disturbare il concerto e faceva quello faceva quello e ti assicuro che avevo visto tutte le puntate di l'ottavo nano mi sembra che era quello era l'ottavo nano ma c'era la televisione ce l'avevi come facevi a vederle queste cose videocassette ah videocassette tutto perché le cose che mi piacevano le facevo registrare ma come oggi youtube e quindi no ma ti garantisco che vedersi nonostante poi lo spettacolo è quello quando dopo tante repliche è sempre quello però vedersi Corrado che fa quello dal vivo cioè io non riuscivo ne riuscivo anche le stesse battute tutte le sere tutte le sere ridevo come un manto e avevo difficoltà poi c'è poi devi cantare una canzone seria dopo che hai sentito quello che dice maestro c'è vita dopo la morte ma solo un po' il sabato sera capito queste battute che a me mi sdraiavano vabbè poi ricominciavo il concerto facevo un altro pezzo di concerto e poi interrompeva di nuovo che faceva un altro personaggio che l'ho conosciuto però dal vivo che era un poeta il poetino che era un poeta che scriveva soltanto poesie su Valeria Marini è già anche lì e quello veniva in realtà io dovevo suonare mentre lui faceva sta cosa io non ci riuscivo perché era che era un casino vabbè e comunque così si allungava un po' diventava uno spettacolo articolato con una regia e poi alla fine quando finiva il concerto con le luci c'era il fuoco alla fine un sacco un po' di circo si faceva e quando finiva il concerto riprendevano i DJ a mettere la musica alla discoteca e facevano un'altra mezz'ora un'ora fino a che c'era gente che andava da saldì e facevano la discoteca e quindi così facendo diventava uno spettacolo di tre ore tre ore e mezzo divertente più ogni tanto anche ospiti cose insomma e quindi quella lì è stata l'estate che abbiamo girato divisi ma insieme perché poi sul palco interagivamo con Corrado ed era era divertentissimo anche io poi non ho più sentito dopo lui è difficile da raggiungere difficile da raggiungere vorremmo averlo ospite al podcast ma per ora non ha funzionato ma lui è uno molto introverso fa poche cose infatti fuori dal palco c'è interagivate oppure ognuno stava per i fatti suoi no si interagiva pure per carità però insomma è uno molto timido molto chiuso perlomeno come l'ho conosciuto io non è lo stesso che vedi sul palco o in televisione insomma quindi interazioni minime relative al scusa chiedo per cui curiosità ogni volta che parlo c'è qualcuno forse è proprio Corrado è il cugino di Corrado non vuole che si sappia ma interagire sì ma non è per quanto sei amico simpatico perché quando fai i concerti i festival le cose in realtà poi davanti vedi una cosa ma dietro il palco non è che hai tempo di stanziare di interagire poi sì capita che te vai a mangiare qualcosa dopo lo spettacolo eccetera però ognuno ha le cose sue poi c'hai magari il prossimo spettacolo dopo tre giorni però quello spettacolo poi magari il giorno dopo lui c'ha una cosa su Rai 2 io devo fare una cosa dall'altra parte lui va a Palermo io vado in Sardegna poi se li troviamo cioè quindi poi sì interazione sì ma con moderazione certo ma in questi concerti show mi sono perso la prima parte perché dovevo fare una cosa importantissima in questi concerti show lui era annunciato cioè le persone sapevano che avrebbe interrotto il concerto ah ok cioè no che avrebbe interrotto il concerto no però lo spettacolo era annunciato si chiamava il tour sulle spiagge e e c'era scritto Alex Britti con Conrado Guzzanti e i ragazzi di Radio DJ e con questa formula abbiamo fatto un sacco di concerti ah e poi erano tutti sulla spiaggia tutti i concerti sulla sulla spiaggia tranne tranne a Bologna per ovvi motivi perché dovrebbe essere stata lunga la spiaggia per arrivare e anche Roma Roma non abbiamo fatto quindi precursori del Jova Beach Party avete portato sì in qualche modo vabbè un concerto sulla spiaggia un concerto sulla spiaggia adesso senza star a scomodare brand effettivamente ho detto una cosa di cattivo gusto posso sì c'ho altre due domande c'ho due domande ma poi tu hai fatto anche ad amici di Maria De Filippi il giurato come si dice no il giudice il giurato coach coach come era lavorare lì con lei con la De Filippi allora cioè lavori nel contesto di Maria però non lavori mai con Maria cioè il mio ruolo era essere il coach dei ragazzi quindi allenare e far fare le prove pomeriggio in sala prove e portare i ragazzi hanno una maturità vocale musicale in generale tale da poi fare l'esibizione e fare bella figura davanti a Maria poi anzi l'avrei voluta vedere anche più spesso perché poi Maria la conosco siamo amici grazie a Maurizio insomma ed è una molto carina molto divertente simpatica però poi lì la vedevo purtroppo la vedevo poco vedevo i ragazzi in sala e poi la vedevo quando c'erano le puntate quindi sì la sigaretta il caffè le cose però poi c'era poco tempo molto breve e avendo lavorato quindi a Mediaset e essendo famoso in quegli anni essendo insomma stato molto famoso in quegli anni lì insomma 90-2000 hai mai incontrato Berlusconi? no non l'ho mai incrociato avrei voluto perché insomma comunque è un personaggio carismatico perlomeno però mai no non l'ho mai incontrato neanche un Dell'Utri no 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 le pensavo ancora più strano cioè perché mai avrebbe dovuto non l'ho incontrato Berlusconi però dell'Utri varie volte appassionato di trattorie minore no no vabbè non era curioso se magari avessi detto quel ragazzo mi piace no ma con con quelle fasce più alte ci parlano dall'ufficio non ci parlo io direttamente poi qualcuno magari mi è capitato anche di incontrare sia in Mediaset che in Rai però insomma no nello specifico il Cavaliere e i suoi no purtroppo no devo dire purtroppo peccato peccato ero curioso Stefano Citiane beh peccato perché sicuramente qualche barzelletta l'avremmo scambiata certo un po' di donne un po' così cioè sembrava comunque non l'ho conosciuto ma sembrava uno comunque simpatico aveva quelle frecce nella sua faretra le barzellette le donne quelle te le diceva subito secondo me però anche comunque presidente del consiglio per infiniti anni quindi meglio se sto zitto c'è c'è una rubrica che teniamo all'interno di questo podcast la rubrica si chiama cacare in discoteca per cui noi chiediamo all'ospite in pista o separatamente questo è un tema nel senso che chiediamo all'ospite cambia tantissimo se ha un un aneddoto di una volta in cui gli è capitato di dover andare in bagno nel posto peggiore nel momento peggiore quale posto peggiore della discoteca quale posto peggiore per dire Dio ti prego non qui non adesso invece lì adesso e non deve essere per forza una discoteca ma chiediamo no infatti no discoteca non è mai capitato non sono stato mai un grande frequentatore invece a me piace allenarmi e vado spesso a correre nei parchi negli straordinari parchi di questa città la più bella delle ville tutta la mia infanzia adolescenza e anche dopo tanto insomma Villa Manfili e lì lì sì non ricordo nello specifico quindi non dovrebbe essere stato o non è stato troppo traumatico o rimosso quindi per favore non infierire rispetto alla mia no non lo so però quando corri è la cosa più perché in discoteca comunque bene o male c'è un bagno un bagno c'è poi è occupato ci stanno in cinque dentro escono tutti strani però però almeno un bagno c'è invece quando vai a correre a Villa Manfili non c'è e quindi io pure sono andato a correre non c'è il bagno non c'è il lavandino per lavarsi le mani no certo quindi o se sei molto allenato magari corri a casa però devi essere molto allenato nei periodi se hai fatto tardi se hai bevuto un po' la sera prima ha mangiato pesante allora io nel giardino del vicino in questo caso io ho corso a Villa Manfili per un po' varie volte ci ho corso parecchie volte perché vivevo là vicino un po' di anni fa dove ti ricordi dove ti sei appartato? ma che vuoi andare a vedere se c'è ancora no? probabilmente no passati anni mi piace immaginare no però perché un po' la conosco quindi mi incuriosisce la conosci che? Villa Manfili ah Villa Manfili Villa Manfili ti ricordi dove perché può essere pure no nello specifico nello specifico no però in vent'anni potrebbero essere stato potrebbero essere stati molteplici come dire come dire comunque la villa è grande Villa Manfili è gigantesca che fai sei monotono sempre lo stesso po' una volta un profumo una volta un colore una volta una chiesetta è come i ristoranti c'ha la mappa anche questa prima ti chiamano amico se ti chiamano amico e dici Alex sto a Villa Manfili bravo tu chiami prima di andare a correre gira a sinistra bellissimo c'è un'altra domanda che faccio sempre a tutti gli ospiti che è che rapporto hai o hai avuto con la marijuana un bellissimo rapporto da ragazzo poi affievolito e poi è andato si può capitare ogni tanto però insomma e quando fumavi ti sembrava che ci fosse un rapporto tra uso della marijuana e creatività non particolarmente cioè non credo che uno faccia mai uso di qualsiasi tipo di droga per ottenere dei risultati ma solo per sballarsi questa un po' poi sì magari magari il vino è più sui ti lasci andare i freni inibitori invece magari la marijuana te li tiene ancora di più perché ti intrippi quindi quindi sì però sempre cioè io sono stato sempre uno che poi la mattina mi piace andare a correre e quindi quindi cioè se ti ammazzi le bombe poi la mattina non vado a nessuna parte quindi sì la cannettina ci stava però sempre in un modo appunto che poi la mattina mi sveglio mi faccio mi bevo i miei 14 caffè e poi me ne vado a correre e quindi quello è il bilancio quindi tutto comunque non la scelta migliore forse questo spiega apposta poi mi fermo a Villa Manfili anche certo senti quindi anni 90 Amsterdam tu dici no no io vado a correre domani cioè ah ma non lo so poteva capitare però non non era una passione non era una passione ma come dici il non lo so il vino o Amsterdam c'è il museo di Van Gogh che è fantastico ci sono stato qualche volta però non è che poi stai tutti i giorni al museo di Van Gogh c'hai pure altre cose da fare e così è così tutto il resto di conseguenza anche i coffee shop le marijuana e tutto il resto io penso se non fa male se poi ti svegli nella mattina e stai bene e sei in grado quando esageri poi non sei in grado di farlo quindi lo puoi fare una volta ogni tanto e poi più da ragazzo poi quando cresci e c'hai qualche annetto anche se comunque ti mantieni vai a correre così e tu ti dici mazza stai una favola ti dava almeno sei mesi più giovane e invece poi invece li senti gli anni quindi questa cosa più si va avanti con gli anni e più la senti quindi se prima magari ti bevevi due bicchieri di vino e ti facevi una cannetta e poi il giorno dopo stavi benissimo adesso se lo faccio poi il giorno dopo sto a una chiavica quindi meglio andare a cuore preferisco insomma fare altro c'è un momento per tutto insomma fai le elementari a sei anni poi le medie poi passi all'università e poi quindi adesso sto in un'altra fase della mia vita grazie del contributo vai ste però se ce l'hai falla non ce l'ho no io pure io pure appartiene un'altra fase della mia vita alla marivana ma che tu poi cioè a un certo punto Mina ha inciso una tua canzone sì ma come cioè come è andata ti hanno chiamato sì ma ma no c'è stato un eccesso sregolato di gentilezza e carineria da parte di lei e del suo staff perché mi ha mi ha chiamato Massimiliano il figlio Massimiliano Pani che che mi ha chiesto se ero contento se mi faceva piacere se Mina avesse cantato oggi sono io che messa così cioè quando mi è arrivata la telefona sai tecnicamente legalmente non serve il permesso se tu non cambi la canzone ma fai una cover se non cambi il testo se non fai delle modifiche sostanziali non devi chiedere autorizzazione quindi il fatto che un artista così importante come Mina chiedesse l'autorizzazione a me per fare il pezzo che non era un'autorizzazione legale ma era soltanto un'autorizzazione di forma cioè se io se a me non mi piaceva Mina non mi fosse piaciuta Mina e diceva no guarda preferisco però loro non l'avrebbero fatta quindi quella lì è un rispetto artistico incredibile talmente tanto che quando mi arrivò la telefonata era il 2001 ed erano in quegli anni c'era scherzi a parte che andava fortissimo era proprio nel periodo top e a me mi arrivò questa telefonata e sono rimasto un po' così non sapevo se credergli se fosse veramente lui perché diceva a te pare che mi chiede il permesso per fare la canzone no ma questo è uno dei scherzi a parte che imita la voce quindi sono rimasto gentile formale però un po' algido un po' così insomma ci ho creduto non ci ho creduto ho detto boh forse sarà vero ma sicuramente no guarda che scherzi a parte ai personaggi di Rovina cioè era proprio molto presente in quegli anni e quindi sono rimasto un po' così infatti penso che Massimile avrà pensato ammazza che stronzo questo poi gli dico che cantiamo la canzone non esulta non fa niente sono rimasto abbastanza così e poi dopo durante la giornata qualche amico ero a Sanremo perché era un altro festival poi dopo quindi incontravo qualche discografico qualche amico così ufficio stampa e mi faceva oh ma allora so che Mina vuole fare il pezzo tuo io pensavo ammazza quanto sono bravi questi scherzi a parte che si organizzano proprio sono arrivati ai miei amici come vedi che fanno che vanno degli amici che poi c'ha gli amici intorno che sono quelli che sono d'accordo e io per me quindi era un'apparecchiata totale sicuro quando poi invece due giorni dopo tramite un'amica che lavorava con lei come ufficio stampa mi ha detto ah sai è contentissima che fa il brano tuo ha detto quindi dopo ha cominciato a prendere forma l'idea che magari potevo aver fatto una bella figura di merda al telefono con Massimiliano e di fatti l'avevo fatta poi l'avevo richiamato e ho fatto guarda scusa se sono stato un po' così no mazza si figata fai fai quello che vuoi se vuoi vengi a mettere insomma poi hanno fatto hanno fatto la canzone ma perché questa cosa l'ho sentito anche da altri artisti cioè che chiama lui chiama personalmente voi cioè non chiama l'ufficio stampa la gente no ha chiamato direttamente me prima poi dopo visto che io poi insomma sono tornato perché c'è anche adesso sto parlando il Jalapa Show e c'è C'è Con che è tipo i ragazzi cin cin se avete presente che poi sono quei due C'è Con è Balbontini e C'è Con è un musicista e anche lui mi ha raccontato la stessa cosa che l'ha chiamato Mina cioè il figlio e ha detto io sono il figlio di Mina e lui l'ha mandato al fanculo fondamentalmente eh sì perché capito ma secondo te è lui che sbagliare cioè Massimiliano Pani che lo fa apposta perché è sadico e dice eh oppure è ingenuo per fare lo scherzo eh ma nessuno vuole cantare con mia madre ma perché mi chiedevo questa cosa pensa che tutti ce l'hanno dice ma comunque Mina in teoria invece tutti no 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 lo so ma no anche altri anche altri altri personaggi quando io sono diventato famoso nel 98 non è che ero ma anche adesso sono abituato però ci metti un po' a ricordarti di essere famoso quindi a volte ti capita che ti chiama io ho fatto un paio di figurette mi ricordo una volta proprio i primi tempi mi chiamò per invitarmi a una festa Stefano Tacconi portiere no? del Milan vero anche Juve secondo me solo Juve ah dell'Italia dell'Italia anche dell'Italia quello muore perché c'avevo il pupazzo con la capoccia gigante insomma lì è stata la risposta cioè squilla il telefono poi i primi telefonini che ancora non appariva manco il nome il numero quindi ciao Alex sono Stefano sì sono Stefano Tacconi e io ho fatto sì e io so Farcao ciao ho preso e ho riattaccato un'altra volta mi telefonò per fare una cosa in teatro un dibattito mi chiamò Francesco Rutelli quando era sindaco di Roma e anche lì ho fatto una figura perché ero stavo a mille stavo a piedi col cappellino nascosto a passare in mezzo la gente a Milano che dovevo arrivare in ufficio e mi chiamò mi squillò il telefono e io così ho risposto il telefono e sentì Alex ciao sono Francesco Rutelli e io ho detto sì e io so Berlusconi e ho attaccato e pure lì ho fatto una figura poi invece lui mi ha richiamato tipo due minuti dopo ho sentito questa voce che si ammazzava da ride si stava a divertire come un pazzo e lui diceva Alex lo so però come faccio a dirti che sono veramente Francesco Rutelli mentre parlava l'ho riconosciuto lì ho gelato perché era il sindaco fa due conti mi stavo a comprare a casa avevo un pacco di multe così e calla non vado poi mi mettono invece no invece era molto divertito la cosa poi è uno anche molto divertente e simpatico quindi poi abbiamo fatto nonostante tutto l'abbiamo fatto sta cosa me l'ha ridetto un po' di volte poi è finita poi dopo un po' ha smesso di riportare questa cosa Stefano c'è un'altra cosa c'è un'altra cosa vai l'ultima poi fai l'ultima siamo in chiusura sono in chiusura sono a rischio figura di merda perché questo l'ho già fatto in altre puntate la puntata va bene poi c'è l'ultima cosa e faccio la figura di merda c'è un po' aspetta respiro allora c'è questa cosa non so se tu la sai che si dice quando si dice ah c'è Alex Britti ma è successo anche di recente che dico ah c'è Alex Britti viene qua e lui fa oh e mi dicono lui fa fa canzoni pop però è un chitarrista della madonna c'è questa cosa qui cioè te ti è mai arrivata questa cosa sì c'è pure un meme che gira ah ok il quanto ci capisco non so se uno ci vabbè c'è un meme di uno che dice ah Britti fa pop però suona la chitarra poi si gira fa quanto ci capisco una cosa è farina ma sì rimango sempre cioè ormai sono abituato però rimango sempre un po' basito dal fatto che bisogna per forza staccare le due cose cioè pure Eric Clapton fa i pezzi pop però è un chitarrista forte molto più forte ne abbiamo detto lui non per eguagliarmi per carità però non viene mai detto è Clapton fa i pezzi pop però è un grande chitarrista invece su di me sugli italiani ma anche di Pino si diceva sta cosa anche di Ivan Graziani si diceva sta cosa perché non abbiamo l'abitudine a far sì che uno si sveglia scrive canzoni pop però poi suona la chitarra bene non è cioè viene sempre considerata come come due cose diverse invece io non è che sono uno o l'altro io sono così nel bene o nel male quindi non ci dovrebbe essere questo però cioè fa canzoni pop e è un chitarista esatto è un basso la canzone pop e suona più o meno bene come ti piace quello di meno però uno che scrive canzoni pop e suona la chitarra in un certo modo e non però 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 che cioè no giusto sono d'accordo sì anche per grammatica però però più breve giusto cioè io mi vedo così insomma senza ti ho detto senza ugualiarmi a nessuno non voglio paragonarmi a Hendrix che faceva canzoni pop montare i pop festival all'isola di White era il pop dell'epoca e poi suonava la chitarra così io sono cresciuto guardando quelli e sono uscito fuori così non so se è un bene o un male però io questo so sembrerebbe un bene sembrerebbe un bene sembrerebbe un bene però se può usare dice allora Britti è un cantante pop suona una chitarra bene però cucina ah esatto allora lì il però quello è stupendo però non hai capito però va a cuore mi piace allora sì c'è il però ma finché canti e suoni secondo me ci sta ci serve ci sta siamo in chiusura e può essere che chiudiamo qua la puntata online però ti volevo chiedere se ti andava di suonare qualcosa visto che ti hanno messo la chitarra là e fare sì non tanto se non ti va puoi non farlo dai scherzo no poteva essere ma infatti la chiudevamo quanto era bello la chiudevamo non volevamo fare la trappola no era bellissimo se finchiamo la puntata con questa chitarra qua tutta l'aspettativa fino alla fine e poi alla fine arrivederci no però ci poteva stare se non ti andava alla fine con la chitarra o con la padella forse è meglio la chitarra la prossima volta avviene i fornelli e l'induzione diciamo senti questi stanno qua se ti va ah e possiamo ecco l'asta aspetta c'è pure ah c'è un'asta ammazza abbiamo fatti i soldi è il mio microfono che è caduto per dire il livello di professionalità che porto io su questo palco non l'ho spostato perché c'era l'asta qua è certo vedi te l'ho messa io infatti di chitarra non capisco aspetta prendo una tenna ah qua ce l'ho ce l'ho immaginavamo veramente metto in mezzo così si sente la voce? si si pure la chitarra? si da piccolo facevo discorsi a volte strani chiedevo se è normale fare tutto con le mani a volte usavo i piedi prendevo cosa in terra chiedevo fosse giusta tutta questa brutta guerra ma fu un'azione intere spararsi tra di loro per spartirsi quattro campi una bandiera nuova è loro e quindi già da piccolo facevano le certezze e quindi domandavo forse cerca di carezze ma i dubbi rimanevano vedevo un mondo strano come se una grande barca viaggia senza capitano dove si va se si va dove si va se si va da piccolo vedevo le cose in televisione e già capivo che era tutto solo una finzione che l'isola del tesoro non era chissà dove basterà cerca di carezione non è forse quando si ove la logica non c'entra non l'hanno mai inventata è solo un altro modo per girare la frittata e di che ci prende il giro che ha voglia di barare che qualcuno come una mazza gliela vuole far pagare e quindi c'è lo stress regna solo confusione però un letto sul giornale che pensi è bravo che va dando un clore dove si va se si va 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 adesso stanno zitto la musica è finita tutto quello che non ho detto lo dirò in un'altra vita grazie grazie signore e signori Alex Britti grazie mille grazie grazie se vi va fate anche un applauso a Stefano Rapone a Snodo a The Comic Club a voi che siete venuti qua stasera che siete tantissimi grazie e un altro applauso all'ospite grazie grazie ciao a tutti ciao a tutti vediamo la prossima puntata ciao grazie 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 a tutti